lezione 25 del corso di astronomia in questa lezione parlerò delle nane bianche vedremo che cosa sono quali sono le loro caratteristiche l'atmosfera del campo magnetico parleremo delle nebulose planetarie in cui si trovano e che hanno contribuito a generare se attorno a questi oggetti possono esistere pianeti abitabili vedremo la fisica delle nane bianche e quindi anche le applicazioni di alcuni concetti relativi infatti a causa dell'intenso campo gravitazionale che questi oggetti generano vedremo come sono stati scoperti quali sono le più vicine e non solo e poi dei fenomeni molto interessanti di recente scoperta come appunto le onde gravitazionali che possono generare questi oggetti e cominciamo parliamo di nane bianche in particolare vediamo che cosa sono le nane bianche sono ciò che rimane di antiche stelle ormai spente e sono tra gli oggetti più densi dell'universo vengono superati solamente da buchi neri e stelle a neutroni come si formano le nane bianche sono prodotti finali di una stella qui vediamo il ciclo vitale di una stella ipotetica tipo sole perché questi sono oggetti che si formano alla fine dei cicli vitali di stelle di piccola e media massa come il nostro sole e quando queste stelle consumano tutto il loro combustibile nucleare presente nel nucleo finiscono la sequenza principale e si evolvono in qualcosa di diverso da prima diventeranno una gigante rossa e poi dopo aver perso gli strati più esterni quello che rimarrà sarà una nana bianca avvolta da una nebulosa planetaria la fase di gigante rossa e di nebulosa planetaria consiste nel perdere gli strati più esterni gassosi quindi massa per questo motivo le nane bianche che si formano da stelle con una massa simile al nostro sole hanno poi una massa residua che varia tra 50 e 70 per cento di quella della nostra stella ma sono un milione di volte più piccole quindi la loro densità è altissima tanto che nonostante abbiano una massa paragonabile alla metà o a tre quarti di quella solare hanno le dimensioni paragonabili a quelle della terra qui vediamo una nana bianca che ha la massa pari a quella solare ma un raggio paragonabile a quello terrestre in queste condizioni la densità della materia è talmente elevata che il campo gravitazionale è fortissimo tanto che la velocità di fuga su un oggetto simile è il 2 per cento della velocità della luce quindi vedete che sono oggetti molto particolari come già detto le nane bianche sono tra gli oggetti più densi dell'universo infatti se potessimo raccogliere un cucchiaino di materia che costituisce questi oggetti questo cucchiaino peserebbe cinque tonnellate quindi l'equivalente di un elefante perché perché c'è tanto spazio vuoto dentro gli atomi e tra gli atomi che in condizioni normali la materia non occuperebbe ma quando subisce forti compressioni le particelle che costituiscono gli atomi protoni neutroni elettroni sono obbligati a occupare un volume minore quindi occupare anche con gli spazi vuoti ecco che la materia riesce ad addensarsi in volumi molto piccoli è per questo motivo che riusciamo ad avere nel volume di un cucchiaino l'equivalente di 5 tonnellate di massa di materia e proprio perché molto compatta è ovvio che una densità così elevata crea dei fenomeni relativistici molto importanti possiamo confrontare la deformazione spaziale che questi oggetti causano con una densità così elevata la cavità in superficie è stimata in almeno 100 mila volte superiore a quella terrestre per questo vi ho detto che la velocità di fuga può essere addirittura una percentuale rilevante di quella della luce e questo ovviamente genera i famosi fenomeni relativistici che osserviamo anche attorno ai buchi neri sono i terzi oggetti più densi dell'universo dopo stelle a neutroni ovvero le famose pulsar e i buchi neri qui vediamo la deformazione spaziale che si genera attorno a questi oggetti confrontata con quella generata dal nostro sole quindi masse così alte causano deformazioni spazio-temporali molto pronunciati infatti poi vedremo alla fine di questa lezione che una metodologia per osservare questi oggetti è proprio utilizzare fenomeni di lente gravitazionale quindi un fenomeno relativistico per poterle identificare come sono fatte le le bianche vediamo un po qualche caratteristica quando questi oggetti si formano una grande quantità di massa già molto calda viene compattata in un volume molto piccolo questo aumenta notevolmente la sua temperatura perché se io prendo un volume di materia e la comprimo la temperatura che prima era diffusa su uno più grande viene concentrata in un volume più piccolo e quindi questa aumenta in superficie sono state registrate temperature che vanno dai 10 mila ai 30 mila gradi ma sono state osservate anche nelle bianche con temperature maggiori addirittura fino a 100 mila gradi o di più vediamo alcune caratteristiche fisiche di questi oggetti confrontati con il nostro sole ad esempio il diametro è paragonabile a quello di un piede roccioso perché va tra i 6 mila fino ai 14 mila chilometri quindi tra oggetti grandi quanto marte a qualcosa di poco più grande di quelli terrestri però questa è una media poi ovviamente ci possono essere delle eccezioni queste ovviamente messa a confronto con il nostro sole che ha un diametro di un milione e 391 mila 400 chilometri poi abbiamo una massa che va da 1 a 2 per 10 alla 30 chilogrammi quindi una massa che in media si trova intorno al 70 per cento di quella del nostro sole che di circa 2 per 10 alla 30 chilogrammi il volume ovviamente ci sono diversi ordini di grandezza che separano il volume delle bianche da quello del sole addirittura a volte anche ben sei ordini di grandezza per questo possiamo dire che addirittura un milione di volte più piccola poi abbiamo la gravità che è molto superiore nonostante la massa della nana bianca sia minore di quella solare la sua densità così elevata fa sì che in superficie la nana bianca abbia una gravità centinaia di migliaia di volte superiore a quella del nostro sole addirittura se voi vedete qui vediamo che la velocità di fuga da una superficie di una bianca ha un ordine di grandezza di decine di volte maggiore di quella che c'è sulla superficie della nostra stella perché se vi ricordate dalle lezioni precedenti la gravità di un oggetto non dipende tanto dalla massa dell'oggetto ma dalla densità dell'oggetto se l'oggetto che ha una massa relativamente piccola è concentrata in un volume molto piccolo quindi a un'alta densità sulla sua superficie la gravità tende ad avere valori altissimi e proprio come in questo caso nonostante questo oggetto abbia le dimensioni di un piccolo pianeta roccioso la sua enorme massa paragonabile a quella di una stella gli conferisce una gravità superficiale centinaia di migliaia di volte maggiore a quella che siamo abituati qui ad avere sulla terra o anche su una stella come il nostro sole e poi ovviamente già detto più volte la densità che è milioni di volte maggiore di quella di una stella la luminosità invece può essere paragonabile o di poco inferiore a quella di una stella questo perché nonostante sulla superficie ci possano essere temperature superiori a quella di una stella anche se in media stiamo lì in realtà l'oggetto così piccolo tende a generare molta meno luce perché ha una superficie radiante molto minore quindi a parità di superficie la luminosità può essere paragonabile a quella di una stella ma complessivamente è molto minore perché la sua superficie è appunto molto minore e poi le temperature che possono essere paragonabili a quella di un'anomale stella che vanno dai 4000 ai 15 mila gradi kelvin messa a confronto con quelli del nostro sole che sono di 5500 gradi kelvin c'è da dire però una cosa questi astri non stanno bruciando qualcosa loro semplicemente sono caldi perché hanno tanto calore residuo della stella che romessa spenta quindi questi oggetti sono in fase di raffreddamento solamente che hanno talmente tanto calore accumulato che questa fase di raffreddamento può durare milioni sono addirittura a miliardi di anni tanto che fino adesso probabilmente non esistono ancora nane bianche totalmente raffreddate perché il loro tempo di raffreddamento è molto più lungo dell'attuale età dell'universo in parole semplici da quando si è formato l'universo nessuna nana bianca che si è formata successivamente ha avuto ancora il tempo di raffreddarsi completamente vedremo che quando questi oggetti si raffredderanno diventeranno qualcosa di diverso appunto nane nere ma secondo i modelli fisici ancora non dovrebbero esistere perché non c'è stato ancora abbastanza tempo dall'inizio di universo affinché queste si possano raffreddare completamente abbiamo detto che questi oggetti si formano da stelle con una massa simile a quella del nostro sole vediamo qual è il ciclo vitale di queste stelle le stelle nascono da nebulose interstellari in particolare costituite da idrogeno ed elio che possono anche essere arricchite da elementi pesanti da queste nebulose che poi per forza centrifuga si appiattiscono a formare dei dischi si forma una stella centrale a volte anche due come vedremo in lezioni successive i sistemi con due o più stelle sono molto comuni nell'universo e attorno ad essa con i resti di questa nebulosa si formano anche dei pianeti quindi questa è la teoria di formazione dei sistemi planetari una teoria molto confermata perché oggi osserviamo grazie a telescopi spaziali altri sistemi stellari in formazione e quindi vediamo effettivamente nei nostri telescopi questo processo come stato teorizzato dalle simulazioni al computer poi per la maggior parte della vita di questa stella almeno il 90 per cento della stella si trova nella sequenza principale nel caso del nostro sole ci troviamo in un momento di mezza età praticamente il nostro sole si è formato 4 miliardi e mezzo di anni fa e ha ancora davanti a sé almeno 5 miliardi di anni di sequenza principale prima di raggiungere la fase di gigante rossa che vedremo a breve come funziona una stella durante una sequenza principale durante la fase di sequenza principale è in equilibrio tra due forze tra la forza di gravità che tende a comprimere la stella verso il centro e la forza delle reazioni nucleari che avvengono solamente nel suo interno e non esternamente che tende a controbattere la gravità questa forza nucleare è il risultato della fusione nucleare che mantiene attive tutte le stelle e nella sequenza principale la fusione nucleare consiste nella fusione di quattro atomi di idrogeno a formare un atomo di elio questo processo libera calore ed energia miliardi miliardi di particelle energetiche che spingono verso l'esterno della stella impedendo a questa che possa collassare è una situazione talmente stabile che permette alla stella di mantenersi in questa fase per miliardi di anni nel caso del nostro sole almeno 10 miliardi di anni ma che cosa succede quando alla fine di questa fase la stella esaurisce il combustibile nucleare ovvero l'idrogeno nel suo nucleo la stella va in crisi perché con una ridotta energia nucleare prevale la forza gravità che non ha mai smesso di premere la stella verso l'interno ovviamente questo tempo di sequenza principale dipende dalle dimensioni delle stelle più le stelle sono piccole e più sarà longeva la loro vita perché stelle piccole sono schiacciate da una forza di vita più debole e quindi hanno bisogno di consumare meno energia per poter contrastare questa fase gravità stelle più massicce sono schiacciate da una forza di vita molto maggiore e devono bruciare molto più combustibile e più in fretta per poter equilibrare questa forza gravitazionale inoltre le stelle piccole hanno moti convettivi che coinvolgono anche gli strati superficiali quindi nel caso di stelle con una massa minore alla metà di quella solare possono attingere idrogeno per la loro combustione anche dagli strati superficiali perché i modi convettivi pescano idrogeno fin dalla superficie invece stelle di media massa come il nostro sole bruciano solamente l'idrogeno presente nel nucleo quindi hanno molto meno idrogeno con cui bruciare perché all'esterno del nucleo in moti convettivi non riescono a trasportare l'idrogeno superficiale verso il nucleo dove avviene la fusione questo non solo riduce la quantità di idrogeno a disposizione della forza nucleare di questa stella ma con una maggiore massa questo idrogeno deve essere bruciato più in fretta per poter contrastare la forza gravità per questo motivo stelle come il nostro sole hanno un'età media che è dell'ordine di 10 miliardi di anni stelle molto più massicce come le giganti blu consumano talmente tanto in fretta il loro combustibile nucleare da durare solamente pochi minuti anni mentre stelle più piccole come le nane rosse possono durare addirittura per centinaia di miliardi di anni tant'è vero che da quando si è formato l'universo nessuna nana rossa ha ancora terminato la sua sequenza principale cosa significa che chi sta cercando vita intorno ad altri pianeti la va a cercare intorno a stelle molto longeve come le nane rosse le nane arancioni e le nane gialle come il sole di certo non si va a cercare un pianeta abitabile attorno a una stella con un ciclo vitale molto breve paragonabile a pochi minuti di anni come caso dei giganti blu però tornando al topic della nostra lezione c'è da dire che le stelle più piccole hanno un ciclo vitale molto più lungo ma alla fine tutti quanti arrivano a consumare il loro combustibile nucleare in dotazione e quando questo avviene la stella va in crisi perché a questo punto la forza di gravità prevale sulla forza nucleare la stella viene compressa e cosa succede a un gas quando viene compresso che si sorriscalda innescando nuove reazioni nucleari a temperature più elevate è in questa fase che le azioni nucleari alternative alla fusione di idrogeno cominciano ad avvenire formando elementi più pesanti per stelle piccole come il sole si arriveranno a formare elementi fino al carbonio e all'ossigeno e infatti la struttura di una stella arrivata alla fine del suo ciclo vitale avrà una composizione chimica diversa dall'interno verso l'esterno dove il nucleo sarà composto da carbonio ossigeno gli ultimi elementi chimici formatisi in questa fase e circondato da strati di elementi sempre più leggeri dove in ogni strato ci sono temperature diverse che attivano reazioni di fusione nucleare diverse generando appunto elementi chimici più pesanti è qui che la nucleosintesi stellare comincia a generare gli elementi chimici che vediamo sulla tavola periodica però nelle stelle di piccola massa che danno origine alle nane bianche al massimo queste reazioni nucleari arrivano fino a formare carbonio e ossigeno non vanno oltre gli elementi chimici più pesanti si formano con processi di nucleosintesi stellari all'interno di stelle più massicce che però al termine della loro vita non daranno origine alle nane bianche quindi non sono il topic di questa lezione questa stratificazione è importante e la vedremo quando la stella genererà una nebulosa planetaria perché dico fino al carbonio e l'ossigeno perché stelle così piccole con questa massa riescono all'interno del loro nucleo a generare solamente elementi pesanti fino al carbonio e l'ossigeno stelle più massicce possono arrivare fino a generare il ferro però non sono quelle che poi daranno origine alle nane bianche vi ricordo che le nane bianche sono originate da stelle poco massicce quando poi alla fine queste stelle molto massicce arrivano a formare il ferro le reazioni di nucleosintesi stellare assorbono energia invece di emetterla e la stella si spegne di colpo collassando formando poi una supernova però questa parte l'abbiamo già vista nella lezione dedicata all'evoluzione stellare quindi non la rivedremo in questa lezione perché le nane bianche vengono generate solamente dalle stelle di piccola massa che arrivano nella parte finale a formare solamente carbonio e ossigeno infatti poi vedremo che la composizione chimica le nane bianche l'interno è appunto di carbonio e ossigeno quando queste fusioni nucleari si attivano la stella si surriscalda ancora di più perché stanno generando tanto calore e cosa fa una palla di gas quando si riscalda si espande generando una gigante rossa l'espansione può arrivare fino a 100 volte o 150 volte il volume della stella originaria tanto che i primi pianeti del sistema planetario rischiano addirittura di essere ingoiati da questa espansione stellare quando succederà al sole pianeti come mercurio e venere e forse anche la terra verranno con inghiottiti dagli strati più esterni della stella che si sono espansi ed è proprio in questa fase che si attiva la reazione di fusione nucleare chiamata processo triplo alfa che da due atomi di elio mi genera berilio e poi carbonio quindi abbiamo la nucleosintesi di elementi chimici più pesanti e che manterranno la fase di gigante rossa per molto tempo addirittura nel caso del nostro sole per almeno due miliardi di anni tanto che secondo alcuni scienziati ci sarà una nuova zona abitabile stabile per almeno mezzo miliardo di anni che coinvolgerà le lune dei giganti gassosi quindi le lune di giove di saturno saranno immerse da una quantità di luce calore sufficiente a poter ipoteticamente alimentare forme di vita sulla loro superficie quindi tutta quell'acqua che questi mondi oggi hanno sotto forma di crosta ghiacciata e oceani sotterrani potrebbero un giorno ricevere abbastanza energia per almeno mezzo miliardo di anni per poter sviluppare qualcosa di vivente però queste sono tutte quante supposizioni qui vediamo l'immagine del sole trasformato in gigante rossa posizionato nel sistema solare i suoi stati più esterni arriveranno a lambire l'orbita terrestre quindi probabilmente anche la terra subirà un fenomeno di attrito con gli stati più esterni solari e avrà un'orbita decadimento che la farà cadere sulla superficie della stella quindi anche la terra non riuscirà a sopravvivere a questa fase del sole ma comunque l'ambiente terrestre non sarebbe stato abitabile nessun modo perché l'energia solare che in quella fase raggiungerà la terra renderà comunque questo pianeta un ambiente totalmente inospitale alla vita perché le temperature non saranno più compatibili con l'acqua liquida quindi la terra sarà comunque un oggetto inabitabile in ogni modo alla fine di questa fase il sole e tutte le stelle di massa simile perderanno gli strati esterni nello spazio generando una nebulosa planetaria ciò che rimarrà al centro sarà la parte più interna della stella quindi il nucleo che non si è evaporata durante la fase gigante rossa ed è la parte più compatta più densa appunto la nana bianca l'oggetto centrale che rimane ovviamente non starà più bruciando niente perché le reazioni nucleari saranno finite ma continuerà ad emettere luce e calore per molto tempo perché sarà tutta la luce e calore che ha accumulato nella fase di sequenza principale e di gigante rossa della stella quando era ancora in vita gli strati più interni della nebulosa planetaria verranno illuminati dalla radiazione ultravioletta della nana bianca perché ovviamente a queste deprodurre le reazioni avranno alte energie e vedremo diversi colori stratificati e nullosa che corrisponderanno agli diversi elementi chimici che costituono la stella poco prima di espandersi gli stessi elementi chimici che abbiamo visto stratificati della struttura interna della stella in sequenza finale ed è proprio grazie a questi fenomeni che poi elementi chimici più pesanti dell'idrogeno dell'elio ritroviamo oggi diffusi nelle nebulose planetarie gli stessi elementi chimici pesanti che costituiscono i nostri corpi e il nostro pianeta silicio carbonio ossigeno ferro magnesio calcio eccetera eccetera si sono formati nelle sequenze finali delle stelle di massa simile o maggiore a quella solare che durante la sequenza finale sono state poi espulse nello spazio interstellare questa nana bianca rimarrà così per molto tempo perché come vi ho detto la densità di materia così elevata accumula talmente tanto calore quindi la nana bianca diventa un corpo che ha una gigantesca capacità di accumulazione del calore che gli permetterà di mantenere alta la sua temperatura per molto tempo e ci metterà molto tempo a dissiparlo nello spazio quindi questi oggetti rimarranno caldi e luminosi per tempi molto lunghi vi ricordo che non sta bruciando niente è calda e luminosa solamente per incandescenza perché sta rilasciando lentamente l'enorme quantità di calore che ha accumulato al suo interno e questa continuerà a irradiare luce calore per moltissimo tempo questo oggetto avrà le dimensioni molto ridotte perché nella sequenza finale quando le reazioni nucleari sono terminate la gravità ha avuto la meglio e ha compresso la materia finché poteva tant'è vero che esiste un vero e proprio limite di massa che le stelle possono avere per poter formare le bianche oltre le quali la compressione raggiunge un livello successivo e si formeranno altre cose e lo vedremo a breve la stella compressa ormai è spinta l'oggetto tante volte non sta bruciando più nessun combustibile ma accumulato talmente tanto calore che continuerà ad irradiarlo ed emetterlo per incandescenza per moltissimo tempo le nane bianche hanno dimensioni paragonabili a quella di piccoli pianeti rocciosi come la terra e questo l'ho già detto ma con una massa di tipo stellare questo perché come già detto la gravità durante il collasso ha compresso così tanto gli atomi da ridurre notevolmente lo spazio che questi occupano e quindi costringeri numero molto più piccolo vedremo che questo è l'ultimo stadio della materia prima di acquisire una forma de genere che cosa vuol dire che è l'ultima compressione massima che può avere la materia prima di acquisire una forma irrecuperabile di compressione che troviamo poi nelle stelle a neutroni e nei buchi neri quindi negli oggetti successivamente più densi delle nane bianche prima di parlare di questo andiamo un attimo avanti e vediamo come vengono classifica delle stelle esiste un diagramma chiamato hr questa cronimo deriva dalle iniziali dei due scienziati che lo hanno disegnato gli astronomi earth sprung e russell che hanno messo in correlazione la temperatura delle superfici stellari con la loro luminosità e hanno visto che la maggior parte delle stelle si allineano lungo una diagonale il nostro sole si trova più o meno a metà di questa diagonale questo perché c'è una correlazione tra massa luminosità e temperatura che nella sequenza principale fa evolvere le stelle seguendo questa diagonale infatti tutte le stelle invecchiando diventano sempre più calde e riscaldandosi spostano la loro luminosità e la loro temperatura secondo i parametri di questa diagonale questo è il caso delle stelle in cui super giganti blu super giganti rosse gigante rosse sono fuori da questa diagonale che rappresenta di fatto la fase della sequenza principale delle stelle e come abbiamo già visto nella lezione dedicata all'evoluzione stellare il colore della superficie quindi della stella dipende dalla sua temperatura per questo lungo la sequenza principale abbiamo questa variazione cromatica molto regolare le stelle più calde sono blu le stelle più fredde sono rosse il nostro sole è una stella tiepida quindi si trova più o meno a metà strada tra le calde e le fredde e la sua temperatura di 5.500 gradi kevin e gli conferisce una colorazione gialla quindi il sole viene definito una nana gialla perché tra le gialle ha una dimensione più o meno piccola questo abbiamo già visto è un vantaggio perché più una stella è piccola e più è longeva perché consuma più lentamente suo combustibile nucleare e quindi permette di dare al sole una lunghissima fase di sequenza principale che sicuramente è stato determinante per dare il tempo alla terra di evolvere la vita però se andiamo a studiare le nane bianche vediamo che anche le nane bianche hanno una sequenza principale disposta a formare una diagonale su questo diagramma solamente che a parità di temperatura la loro luminosità è più bassa perché essendo più piccole hanno una superficie radiante minore quindi le le nane bianche hanno temperature simili a quelle delle stelle normali ma comunque la bassa luminosità fa sì che disegnino una diagonale più in basso nel diagramma hr e qui la vediamo la loro superficie bianca perché comunque stiamo parlando di temperature superiori a quella che registrava sul sole quindi sono nella fascia delle stelle bianche e vediamo che col tempo anche queste si possono raffreddare subendo una evoluzione inversa rispetto a quelle in sequenza principale perché le stelle in sequenza principale con invecchiamento si sorriscaldano quindi una stella in sequenza principale si evolve salendo lungo la diagonale di questo grafico mentre le nane bianche evolvendosi nel tempo si raffreddano e la loro evoluzione le porta a scendere la diagonale di questo diagramma si comportano in modo diverso infatti come vedete le nane bianche sono stelle al di fuori della sequenza principale che è rappresentata dalla diagonale principale quali sono le temperature delle stelle in sequenza principale queste vanno da i 50.000 gradi kelvin fino ai 3.000 o anche molto più bassi come il caso delle nane brune però come possiamo vedere le temperature delle nane bianche sono più o meno compatibili tra i 5.000 e gli oltre 30.000 gradi kelvin anche se come vedremo ci sono casi molto più caldi comunque la loro piccola superficie le tende a mantenere molto meno luminose tra le stelle e i pianeti esiste un anello evolutivo intermedio che sono le nane brune che non hanno nulla a che fare con le nene bianche quindi non sono una fase evolutiva delle nene bianche ma sono delle quasi stelle che sono di fatto qualcosa di molto simile ai giganti cassosi come giove ma con una massa maggiore una massa abbastanza grande da iniziare a innescare alcune reazioni termonucleari al loro interno però non abbastanza potenti queste quasi stelle e mettono energia propria ma più nel termico quindi nell'infrarosso che nella luce visibile quindi sono una via di mezzo tra i pianeti giganti cassosi e le stelle con delle reazioni nucleari al loro interno molto più deboli che producono la loro energia principalmente nell'infrarosso quindi non emettono luce visibile ma luce infrarossa e alcune di queste possono avere temperature molto basse addirittura ne fu scoperta una con una temperatura superficiale di 30 gradi centigradi quindi sono qualcosa di particolare non hanno nulla a che fare con le nane bianche ovviamente abbiamo detto che le nane bianche sono il prodotto di stelle di piccola massa ma che cosa succede quando una stella di grande massa completa il suo ciclo vitale lo vediamo in questa slide stelle con massa inferiore ad otto masse solari quando termineranno il loro ciclo vitale diventeranno una nana bianca è vero che per generare una bianca serve una massa minima di 1,44 masse solari però durante la fase finale della vita di una stella quindi durante la fase di gigante rossa e la nebulosa planetaria la stella perde molta massa originaria ciò che rimane al centro non riesce a superare le 1,44 masse solari che è il limite massimo affinché si possa generare una nana bianca se l'oggetto centrale finale ha una massa superiore a questo limite chiamato appunto limiti di chandra seccar che vedremo a breve in dettaglio ciò che rimane della stella non sarà più una nana bianca ma diventerà un oggetto post stellare diverso come una stella a neutroni oppure un buco nero infatti come abbiamo visto le stelle di piccola massa seguono questo percorso una volta completata la sequenza principale diventano una gigante rossa e poi danno origine a una nebulosa planetaria perdendo appunto molta massa ma se una stella ha una massa superiore una volta completato il suo ciclo vitale che sarà comunque più breve perché le stelle con masse più grandi bruciano loro combustibile molto più in fretta e hanno quindi un ciclo vitale più breve passeranno attraverso la fase di gigante rossa dove ci saranno reazioni di nucleosintesi stellari che arrivano a generare elementi più pesanti dell'ossigeno e del carbonio fino ad arrivare a generare il ferro quando le reazioni di nucleosintesi stellare all'interno della super gigante rossa cominciano a formare il ferro questo invece di mettere energia la assorbe raffreddando e quindi spengendo la stella che di colpo collassa perché venendo a mancare improvvisamente la forza di reazione nucleare la gravità prende sopravvento e il rimbalzo degli stati esterni genera la supernova questa grande esplosione durante la supernova si formano tutti gli elementi più pesanti del ferro che troviamo nella tavola periodica e sono pochi proprio perché sono poche le stelle che raggiungono questa fase se la massa iniziale della stella aveva un valore compreso tra gli otto e le 20 o 25 masse solari ciò che rimane al centro supererà la massa limite di chandrasekhar che è appunto di 1,44 masse solari e darà origine a una stella a neutroni mentre se la massa iniziale della stella era superiore a 25 masse solari l'oggetto centrale supererà ancora un altro limite di compattazione degenerata dando origine a un buco nero questi due oggetti stelle a neutroni e buchi neri non sono il topic di questa lezione quindi mi fermo qui però le stelle a neutroni in particolare li vedremo in dettaglio in una lezione successiva mentre i buchi neri che abbiamo già visti nella lezione numero 4 di questo corso quello che ci interessa in questa lezione sono le nane bianche possiamo vedere meglio questo fenomeno su questo grafico qui vediamo un grafico che mette in relazione il raggio delle nane bianche con la loro massa e vediamo che esiste un comportamento fisico della materia oltre un certo limite infatti quando la massa della nana bianca supera le 1.44 masse solari il comportamento della materia cambia tanto che secondo un comportamento quantistico delle particelle subatomiche queste al superamento della massa di 1.44 masse solari raggiungono il limite ultra relativistico ovvero il limite per cui le particelle hanno una velocità di fuga molto vicina a quella della luce oltre questo limite le particelle vengono compresse in un modo tale da distruggere la materia quindi avremo una degenerazione della materia in modo irreversibile appena la massa delle nane bianche supera le 1.44 masse solari vedremo che questo fenomeno ovvero il superamento di questo limite può avvenire anche dopo che la nana bianche si è formato trasformandola in qualcosa di diverso vediamo che cosa vuol dire in dettaglio materia del genere o materia distrutta questo è un atomo normale in cui abbiamo un nucleo fatto di protoni e neutroni e degli elettroni che ci girano intorno cosa succede adesso quando subisce una pressione molto elevata ad esempio causata da un collasso gravitazionale la struttura atomica viene fatta a pezzi gli elettroni vengono spinti a fondersi con i protoni formando neutroni e rilasciando raggi gamma l'atomo così ben strutturato diventa una massa in forme di neutroni questo è l'atomo degenerato ovvero una volta che l'atomo ha subito questa compressione estrema non potrà mai più tornare nella sua struttura originaria questo fenomeno avviene quando la componente della stella che viene compressa e schiacciata ha una massa superiore al limite di chandra secca ovvero superiore a 1,44 volte quella del sole quello che si forma è una stella neutroni ovvero un oggetto costituito da un impasto di neutroni senza soluzioni di continuità le stelle neutroni noi riconosciamo bene sotto forma di pulsar perché quando la materia viene compressa in questo modo acquisisce particolari caratteristiche magnetiche e gravitazionali da formare questo astro molto particolare le stelle neutroni hanno campi magnetici molto elevati che possono intrappolare grandi quantità di particelle elettriche e il campo magnetico intorno alla stella fa in modo che questa possa liberare flussi plasmatici di particelle lungo le direttrici dei poli magnetici quindi abbiamo un oggetto molto diverso da una nana bianca le stelle neutroni non sono il topic di questa lezione e le vedremo bene in dettaglio in un'altra lezione a loro dedicata una volta che una stella viene compressa in un volume così piccolo per conservare il momento angolare acquisisce una grande velocità di rotazione spesso l'asse di rotazione non coincide con l'asse magnetico e quindi con i flussi di particelle che questi vengono concentrati dal campo magnetico generando un fenomeno a faro le famose pulsar sono stelle a neutroni in rapida rotazione con questi fasci di particelle cariche elettricamente che vengono sparate lungo le direzioni dei poli magnetici qui vediamo un'immagine dove c'è questa pulsar che genera queste onde all'interno della nebulosa generata dalla supernova in cui è nata qui vediamo un'altra immagine bellissima con queste onde emesse dalla pulsar dissipata all'interno della nebulosa e qui una ricostruzione artistica di un pianeta in orbita a una pulsar infatti sono stati scoperti i pianeti che sono sopravvissuti alla fase supernova della loro stella probabilmente perché erano molto lontani o che addirittura se non sono sopravvissuti si sono riformati grazie alla gravità dai resti della supernova e del sistema planetario che è stato distrutto quindi intorno alla supernova si possono anche formare nuovamente dei pianeti ovviamente non sono ambienti idoni ad ospitare la vita perché essendo così vicini a un oggetto così radioattivo subiscono radiazioni molto potenti non solo radiazioni ionizzanti ma anche intensi flussi di campi magnetici che sono incompatibili con le molecole complesse che vediamo nei sistemi viventi poi se la compressione è ancora maggiore quindi se la stella originaria aveva una massa iniziale di almeno 25 volte quella solare si può generare un buco nero il buco nero è l'oggetto più denso che possiamo trovare nell'universo qui la materia subisce un livello degenerato molto superiore a quello che vediamo nelle stelle a neutroni dove addirittura la deformazione spazio-temporale la fa accumulare all'interno di un punto molto profondo dentro il buco nero un punto addirittura senza dimensioni chiamato singolarità il buco nero è in realtà un enorme spazio che circonda questa singolarità oltre il quale lo spazio e il tempo si comportano in modo molto anomalo in realtà quello che definiamo come buco nero è uno spazio intorno a questa singolarità all'interno del quale la luce non può più uscire fuori perché la forza di cavità è talmente elevata che nemmeno la luce con la sua velocità di 300 mila chilometri al secondo riesce a sfuggirne qui vediamo una simulazione al computer che mostra come lo spazio deformato intorno al buco nero deforma la luce che gli passa vicino questo effetto è chiamato lente gravitazionale è stato teorizzato molte volte addirittura ricostruito per alcuni effetti cinematografici nel famoso fir interstellar ma poi confermato dalle recenti osservazioni di telescopi spaziali e non solo qui vediamo come la struttura di un buco nero abbiamo il disco di accrescimento con la materia che vi sta accadendo con un'orbita a decadimento il buco nero centrale con il suo orizzonte degli eventi oltre il quale non è possibile vedere cosa c'è all'interno e i campi magnetici generati dal disco di accrescimento che concentrano due oggetti di plasma relativistici in direzione perpendicolare al disco di accrescimento e questi sono spesso in modi con cui è possibile osservare un buco nero ovvero gli scienziati non osservano il buco nero ma osservano le conseguenze e gli effetti che il buco nero ha nello spazio circostante da fenomeni di lenti gravitazionali fino a getti relativistici e dischi di accrescimento anche i buchi neri non fanno parte del top di questa lezione quindi non approfondirò di più su di loro ma gli ho dedicato un'intera lezione la numero 4 di questo corso la potete vedere sul mio canale youtube quindi nane bianche stelle a neutroni e buchi neri sono gli oggetti più densi dell'universo man mano che il livello di compressione della materia aumenta aumentano anche i fenomeni di deformazione spazio temporale che questi oggetti generano fino a diventare estremi in prossimità di un buco nero e possiamo confrontarli con quelli di una stella grande quanto il nostro sole ad esempio il sole è una stella di media grandezza con un diametro di un milione e 390 mila chilometri la nana bianca è un oggetto che mediamente ha una massa che va dal 50 al 70 per cento di quella solare anche se ci sono eccezioni di nane bianche molto più grandi ma con un diametro paragonabile a quello di un piccolo pianeta ruccioso quindi un oggetto molto denso perché nel volume di un piccolo pianeta ruccioso abbiamo la massa di una stella poi ancora a livello di compattazione superiore quando l'oggetto supera la massa di chandra second di 1,44 masse solari la gravità comprime la materia fino a costringere gli elettroni a fondersi con i protoni formando una massa indistinta di neutroni in questo caso abbiamo la formazione di stelle a neutroni conosciute anche come pulsar nonostante abbiano una massa superiore a circa una volta e mezzo quella del sole tutta questa massa è concentrata in un diametro di 10 o 20 chilometri praticamente in una sfera che potrebbe stare benissimo all'interno del grande raccordo anulare che circonda roma quindi è un oggetto relativamente piccolo molto più piccolo anche del lazio però con una massa una volta e mezzo di quella del sole quindi potete immaginare i livelli di gravità che si possono sperimentare sulla superficie ma anche solo in prossimità di questo oggetto e poi abbiamo i buchi neri con una massa ancora maggiore e un diametro ancora minore paragonabile a quella del centro storico di roma quindi un oggetto molto piccolo ma molto molto pesante e le deformazioni spazio temporali in prossimità e all'interno del buco nero sono molto rilevanti tanto che il tempo stesso addirittura si ferma in prossimità dell'orizzonte degli eventi il lavoro dell'astronomo indiano chandra secca ha dimostrato che una stella con una massa iniziale fino a otto volte superiore a quella solare nello stadio finale dopo aver espulso gli strati esterni può generare un residuo stellare di massa pari al limite per formare le nane bianche ovvero 1,44 masse solari visto che la maggior parte delle stelle della via lattia hanno una massa inferiore a 8 masse solari questo vuol dire che la maggior parte delle stelle della galassia sono destinate a diventare nane bianche mentre solamente una minoranza si trasformeranno in stella neutroni e buchi neri vediamo bene come avviene l'evoluzione stellare seguendo il diagramma hr l'abbiamo già visto questo diagramma che mette in relazione la luminosità delle stelle con la loro temperatura superficiale e in base alla temperatura cambia anche il colore della superficie delle stelle perché cambia il colore della radiazione intensa emessa le stelle fredde saranno rosse quelle tiepide saranno gialle arancione quelle più calde bianche e blu visto che le nane bianche hanno temperature paragonabili a stelle con colore biancastro queste avranno più o meno lo stesso colore però saranno più in basso nel diagramma hr perché nonostante abbiano la stessa temperatura essendo più piccole hanno una superficie radiante minore e quindi emettono molta meno luce nello spazio per questo motivo su questo grafico sono posizionate più in basso ma concentriamoci sulle stelle che si trovano nella loro sequenza principale la maggior parte della vita di una stella avviene nella sequenza principale queste si evolvono nel tempo seguendo la freccia praticamente salgono lungo il grafico mentre come abbiamo visto prima le nane bianche col tempo evolvono abbassandosi questo perché le stelle quando invecchiano aumentano la loro temperatura mentre le bianche col tempo abbassano la loro temperatura nessuna stella nasce nana rossa e diventa gigante blu tutte quante prima o poi finiscono il combustibile però intanto che bruciano il loro surriscaldamento le porta a evolversi seguendo in salita questo diagramma vediamo il caso del sole il sole nasce circa 4 miliardo e mezzo di anni fa ed era almeno del 40 per cento più freddo e meno luminoso di quanto non sia oggi quindi si trovava un po più in basso lungo il diagramma hr man mano che il tempo passava le reazioni nucleari del sole hanno aumentato la temperatura e oggi il sole si trova un po più su rispetto a diagramma hr una nana gialla con una temperatura superficiale di 5.800 gradi celsius col tempo il sole continuerà a scaldarsi ma prima o poi uscirà dalla sequenza principale e si trasformerà in una gigante rossa dove avverranno reazioni di nucleosintesi stellari più complesse che daranno origine a elementi più pesanti ma per una stella di massa piccola come il sole non si andrà mai oltre il carbonio e l'ossigeno se la stella ha una massa almeno otto volte superiore al sole invece di essere una gigante rossa diventerà una super gigante rossa quindi una stella rossa molto più grande da notare che il colore rosso della superficie sta a indicare la sua temperatura più bassa perché espandendosi le stelle si raffreddano quando viene espanso un gas il gas si raffredda e la superficie esterna ovviamente diventa la parte più fredda fino ad arrivare intorno ai 3000 gradi per questo motivo diventano rosse e quindi sono giganti rosse queste stelle super giganti rosse possono sintetizzare elementi chimici più pesanti dell'ossigeno del carbonio fino ad arrivare al massimo al ferro dalla sintesi del ferro la stella si raffredda perché la nucleosintesi che genera il ferro assorbe calore e non lo emette raffreddando la stella e causando il collasso improvviso e poi l'esplosione supernova per rimbalzo durante la supernova le pressioni e le temperature che si generano formano tutti gli elementi chimici più pesanti del ferro che per questo motivo sono anche più rari una volta che il sole avrà completato la sequenza di gigante rossa e avrà espulso i suoi stati più esterni perdendo massa e generando una nebulosa planetaria la parte centrale interna cioè l'antico nucleo rimarrà compattata al centro sotto forma di nana bianca ed emetterà luce calore per miliardi di anni fino a quando questa non sarà completamente raffreddata e diventerà una nana nera diamo un'occhiata ad alcune stelle che oggi sono nella fase di gigante rossa abbiamo l'arturo una delle giganti rosse più vicine alla terra quasi 37 anni luce di distanza con una temperatura superficiale di 4200 gradi e una massa simile a quella del sole ma espansa in un volume di 25 volte più grande ed è questa espansione che raffredda gli stati superficiali rendendola appunto rossastra questa è la quarta stella più luminosa nel cielo dopo sirio canopo e alfa centauri poi abbiamo beetlejuice una gigante rossa della costellazione di orione a 642 anni luce dalla terra in questo momento la stella sta generando carbonio e ossigeno al suo interno e presto è un presto geologico quindi sono sempre migliaia di anni però a livello geologico e astronomico è un attimo diventerà una supernova con una luminosità apparente dalla terra paragonabile a quella della luna piena quindi della terra sarà uno spettacolo molto bello da vedere di notte probabilmente non lo vedremo durante le nostre vite però nei prossimi millenni la nostra civiltà potrebbe vedere questo spettacolo ancora abbiamo gamma crucis una delle giganti rosse più vicine si trova nella costellazione della croce del sud quindi visibile nell'emisfero australe non dall'italia ovviamente a 90 anni luce di distanza e larga 84 volte il sole ma solo una volta e mezza più massiccia e quindi questa enorme espansione raffredda i gas più esterni conferendogli questa colorazione rossastra gli ammassi globulari sono gli oggetti più antichi delle galassie e quindi contengono stelle molto antiche molte di queste stelle hanno già completato il loro ciclo vitale e raggiunto la fase di nana bianca quindi all'interno di questi ammassi globulari è possibile osservare molte nane bianche questo è l'ammasso globulare ngc 288 la cosa interessante da vedere ma lo vedremo anche in questa lezione più avanti che le nane bianche ci permettono di datare l'età dell'ammasso globulare e dalla loro densità capire quanto è antico e grazie a questo che noi sappiamo che gli ammassi globulari sono le strutture più antiche delle galassie ancora mira a vista 400 luce di distanza sta espellendo i suoi gas più esterni quindi è appena finita la fase gigante rossa un appena geologico quindi sto parlando sempre di migliaia di anni e si sta trasformando in una nebulosa planetaria mira a ha una compagna che è una nana bianca e le orbita attorno chiamata appunto mira b ora vediamo in dettaglio le nebulose planetarie che sono lo stadio finale del ciclo vitale di una stella di piccola massa o comunque con una massa inferiore a otto volte quella solare quando la fase di gigante rossa è terminata gli strati più esterni della stella vengono espulsi nello spazio e la forma di questa nebulosa cambia in base all'interazione tra la gravità della stella e i campi magnetici tutte le nebulose sono diverse perché ogni volta i campi magnetici modellano in modo diverso tutto questo plasma perché questo gas molto caldo è stato ionizzato e quindi è un plasma un gas ionizzato che risente delle forze dei campi magnetici le nebulose planetarie si chiamano così perché un tempo venivano confuse con pianeti gassosi come il nostro giove ma sono oggetti molto diversi e molto più grandi nonostante la loro forma possa essere diversa hanno una struttura più o meno simile dove verso l'interno troviamo gli elementi chimici più pesanti e verso l'esterno l'idrogeno e l'elio che sono più leggeri praticamente riflettono la costituzione originaria che la stella che li ha spulsi aveva nella fase finale del suo ciclo vitale e vediamone alcune di queste nebulose planetarie campi magnetici e gravità rendono questi oggetti unici nella forma e nei colori ma la loro origine è sempre la stessa sono sempre gli strati più esterni di una stella di piccola massa che ha completato il suo combustibile nucleare idrogeno vedremo che tutte le forme sono diverse perché l'espansione di questa nube nello spazio è fortemente condizionata dalla forma del campo magnetico che essendo generato da un plasma quindi un materiale fluido quindi senza forma anche il campo magnetico varia di volta in volta la sua forma per questo ogni nebulosa è praticamente unica vediamo ad esempio la nebulosa abel 31 apparentemente è tra le più estese è situata nella costellazione del cancro a 2000 anni luce della terra antica e poco luminosa si vede la parte di idrogeno rossa esterna e un colore diversa all'interno che evidenzia la presenza di elementi chimici più pesanti all'interno poi ancora abbiamo la ngc 2441 nella costellazione della poppa a 4000 anni luce della terra nasconde la più calda nana bianca conosciuta fino ad oggi con una temperatura superficiale di 200.000 gradi kelvin quindi vediamo che sono state scoperte delle nane bianche particolari sia per temperatura che per dimensioni ma sono sempre casi eccezionali il range normale di dimensioni e temperatura varia sempre tra i 20 mila e 10 mila chilometri per il diametro e fino a 30 mila o 50 mila gradi kelvin per le temperature poi ancora abbiamo un'altra nebulosa del catalogo abel abel 33 che si trova a 2700 anni luce della terra è una sfera quasi perfetta che si espande in modo omogeneo in tutte le direzioni la stella che si sovrappone in questa foto è solo un effetto ottico non c'entra niente con la nebulosa planetaria risulta sovrapposta solo per un fenomeno di prospettiva rispetto a noi che la osserviamo della terra poi ancora abbiamo la ngc 7662 nella costellazione di andromeda tra i 2000 e 4000 anni luce è giovane e larga circa un anno e mezzo luce di diametro quindi è molto grande anche qui si vede bene la stratificazione con gli strati rossi esterni di idrogeno e gli elementi chimici più pesanti all'interno abbiamo la pk 3 2 9 0 2.2 che si trova nella costellazione del regolo e si espande rapidamente attorno a un sistema binario la nebulosa è stata generata solo da una delle sue stelle l'altra è ancora nella fase di sequenza principale poi ancora la nebulosa della zucca vedete che molte nebulose hanno uno sviluppo lungilinio perché i campi magnetici a volte tendono a concentrare l'espansione della nebulosa lungo due direttrici in particolare lungo i poli magnetici dell'intenso campo magnetico della stella originaria quindi a volte molte nebulose hanno uno sviluppo di questo tipo allungato verso due direzioni principali qui si vede bene l'onda d'urto generata dall'espansione di uno di questi due flussi anche la costellazione della zucca si trova nella costellazione della poppa ed è in realtà una nebulosa proto planetaria la gigante rossa sta ancora perdendo gas esterni quindi qui siete bene la diffusione del materiale lungo i due poli magnetici e la nana bianca al suo interno ancora non si è formata si formerà quando questo processo sarà completato qui vediamo una nebulosa planetaria che circonda una nana bianca che si è formata la radiazione ultravioletta della nana bianca ionizza il gas circostante rendendo la nebulosa luminescente e qui si vede la luminosa in dissolvimento ci vogliono alcuni millenni affinché una nebulosa si dissolva completamente all'interno della nana bianca abbiamo già visto l'oggetto ha una densità molto elevata affinché si formi questo oggetto il residuo stellare non deve superare una massa di 1,44 masse solari il limite di chandrasacker e il materiale a suo interno è costituito prevalentemente da ossigeno e carbonio che sono gli elementi chimici più pesanti che stelle di massa piccola riescono a generare con le reazioni di nucleosintesi stellari nelle fasi finali della loro vita le radiazioni ultraviolette della nana bianca ionizzano il gas e rendono la nebulosa luminescente la stratificazione chimica della nebulosa come già detto riflette la struttura interna delle stelle nella fase finale della loro vita e qui vediamo appunto questa stella che si trova nella fase di gigante rossa dove all'interno a causa delle alte temperature si sono attivate reazioni di nucleosintesi stellare che danno origine alle 20 chimici più pesanti dell'idrogeno quindi abbiamo la formazione di beriglio di litio di ossigeno neon carbonio e tutti gli elementi chimici che si trovano nella prima riga della tavola periodica quando la stella e spellerà nella nebulosa planetaria i gas più esterni questa stratificazione verrà rivelata e assorbendo la radiazione ultravioletta della nana bianca diventeranno luminescenti con un colore diverso per ciascun elemento chimico che si è generato è per questo che abbiamo nebulose planetarie così belle e così varie dove il rosso è predominante perché l'idrogeno ma all'interno troviamo colori diversi che rappresentano l'ossigeno il carbonio e tutti gli altri metri chimici che si sono formati nella fase finale del ciclo vitale di questa stella abbiamo già detto che le nane bianche sono una forma ultra compatta di materia in condizioni normali gli elettroni orbitano nel loro orbitale quando questa compressione schiaccia gli atomi non distrugge la struttura atomica come avviene nelle stelle a neutroni ma gli elettroni vengono costretti a stare stipati in meno spazio condividendo orbitali più stretti e quindi l'atomo occuperà un volume molto minore abbiamo già detto che la materia è fatta per lo più da spazio vuoto sia dentro l'atomo che tra gli atomi questa compressione estrema costringe gli atomi a occupare molto meno spazio e quindi la materia è molto più compatta abbiamo visto che nel volume di un centimetro cubo ci può essere l'equivalente di 5 tonnellate di massa di materia quindi la compattazione è molto elevata è una forma di materia del genere in cui la materia è stata compressa in una forma non convenzionale in particolari casi le nane bianche possono essere distrutte da alcune forme di eventi di supernova e c'è la possibilità che questi atomi tornino in condizioni normali questa forma di materia del genere genera questa caratteristica dove il nucleo della nana bianca è un enorme cristallo di carbonio ultracompresso vi ricordo che il carbonio sotto determinate condizioni di pressione forma il diamante quindi secondo i modelli i nuclei delle nane bianche sono dei giganteschi cristalli di diamante che ovviamente sono irraggiungibili perché a quelle condizioni di pressione temperatura e anche gravità è di fatto praticamente impossibile avvicinarsi e poterli raccogliere quindi è un enorme cristallo di diamante irraggiungibile che sta lì nel cielo e a quanto pare la galassia disseminata di questi giganteschi diamanti ultradensi per darvi un'idea di quanto è forte la gravità in cui è sottoposta questa materia un uomo che sulla terra peserebbe 80 kg sulla superficie di questi oggetti peserebbe 88 mila 391 kg quindi verrebbe spappolato sulla superficie non ci si può avvicinare e estrarre questo materiale quindi in realtà la galassia è disseminata da questi cristalli di diamante giganteschi che sono di fatto irraggiungibili in determinate condizioni la nana bianca può essere distrutta da un evento di supernova lo vedremo a breve e c'è la possibilità che questa materia torni in condizioni normali ma normalmente le nane bianche sono destinate a rimanere nello stadio finale anche dopo il raffreddamento e quindi gli atomi imprigionati all'interno di questa trappola gravitazionale saranno costretti ad avere questa forma ultracompatta per sempre per questo viene definita una prima forma di materia del genere ovvero una forma della materia che una volta raggiunta molto difficilmente se non in modo impossibile questa possa tornare in condizioni normali anche le nane bianche si possono classificare e vengono classificate tramite lo spettro elettromagnetico della loro luce che ci permette di conoscere le caratteristiche chimiche della loro atmosfere si classificano in base alla composizione delle loro atmosfere e delle loro temperature superficiali questo grafico le mette in relazione abbiamo sull'asse del x le temperature e sull'asse del y la percentuale delle stelle che non appartengono alla classe principale infatti le stelle che hanno una temperatura variabile tra i 6.000 e gli 80 mila gradi e un'atmosfera superficiale fatta di idrogeno vengono classificati con la sigla di a e rappresentano l'ottanta per cento del totale poi abbiamo le stelle che hanno elio in atmosfera con temperature inferiori ai 30 mila gradi kelvin le quali al di sotto di 12 mila gradi kelvin hanno uno spettro che diventa continuo e vengono classificate come db poi abbiamo le nane bianche che superano i 45 mila gradi hanno idrogeno ionizzato in atmosfera e vengono classificati come dio ancora abbiamo alcuni casi rari come la classe di z che contiene occasionalmente elementi pesanti catturati dallo spazio intestellare se ad esempio si trovano all'interno di una nebulosa più ricca di elementi pesanti e poi abbiamo le nane dq che hanno tracce di carbonio nel loro aspetto atmosferico queste in particolare hanno perso gli stati più superficiali dell'atmosfera ed è possibile rilevare cosa c'è all'interno infatti trovare il carbonio nelle loro atmosfere non è raro poi abbiamo il caso particolare delle nanne predegeneri per quanto riguarda le stelle di tipo pg 1159 non sono propriamente nane bianche ma nuclei di nebulose planetarie così che si chiamano nane predegeneri queste hanno temperature molto alte tra i 75 mila e 200 mila gradi celsius presentano le linee dell'elio del carbonio dell'ossigeno nel loro spettro elettromagnetico ma scarseggiano le linee dell'idrogeno è interessante parlare anche del fenomeno del salto di b questo salto sembra essere causato da cambiamenti nella convenzione interna che subisce la nana bianca a temperature di 45 mila gradi kelvin infatti a quanto pare la convenzione si arresta e l'elio tende a rimanere negli stati più profondi l'idrogeno sta in superficie e la nana bianca sembra essere una di tipo di a per questo c'è questo buco tra la classificazione di o e di b che fa sembrare che queste stelle siano delle dia ma probabilmente è solo un fenomeno apparente superficiale dovuto a una mancanza di convenzione interna che negli altri casi invece rimescola gli elementi chimici in modo diverso e quindi apparentemente l'atmosfera ci sembra come quella di una dia scendendo a 30 mila gradi la convenzione dell'elio tende a riprendersi mescolandolo di nuovo con l'idrogeno portando le superficie e facendolo apparire nello spettro come elio neutro quindi vedere che questa classificazione si basa su ciò che vediamo esternamente della nana bianca quindi lo spettro della sua atmosfera all'interno probabilmente hanno tutte la stessa composizione però poi a diverse temperature la circolazione interna altera la stratificazione di questi elementi e le loro atmosfere acquisiscono una composizione chimica diversa e mettendo quindi uno spettro elettromagnetico diverso per questo diciamo che la classificazione delle nane bianche si basa sulla loro temperatura superficiale e sullo spettro elettromagnetico che questa emette quindi sulla composizione chimica delle loro atmosfere le nane bianche hanno dimensioni specifiche che vanno da un diametro di 20 mila fino a un minimo di pochi migliaia di chilometri e questo perché se superano una certa massa che pari a 1,44 masse solari smettono di essere delle nane bianche perché a quel punto la gravità sarà più forte delle forze repulsive degli elettroni e dei protoni e questi saranno costretti a fondersi distruggendo gli atomi e formando una massa indistinta di neutroni quindi la nana bianca che supera questa massa limite diventerà una stella a neutroni e vedremo adesso che questo fenomeno può avvenire in condizioni particolari e infatti oltre questo limite quando la nana bianca supera questa massa la materia collassa in modo degenerato e irreversibile gli atomi vengono schiacciati perché la forza di cavità supera la repulsione tra protoni ed elettroni e questi costretti a fondere insieme trasformeranno la stella in una massa indistinta senza soluzioni di continuità di neutroni con un interno superfluido si formeranno quindi le stelle a neutroni infatti oltre questo limite la stella collassa o in un buco nero o una stella neutroni ovviamente la stella neutroni e il passaggio intermedio prima di avere un buco nero quindi in base a quanta massa la nana bianca accumula si trasformerà in uno di questi due oggetti nella maggior parte dei casi come vedremo a breve può fare solamente un salto e quindi al massimo una nana bianca si trasformerà in una stella neutroni però ci possono essere casi particolari in cui l'accrezione di materia è sufficiente a farla collassare addirittura in un buco nero vedremo anche questi casi c'è un rapporto tra massa e diametro maggiore la massa minore diametro perché la gravità tende a comprimerla questi diametri pariano tra i 20 mila chilometri fino a dimensioni inferiori a quelli terrestri di circa 10 mila chilometri ma la maggior parte delle nane bianche osservate hanno un diametro compreso tra i 14 mila e i 12 mila chilometri queste nane bianche sono oggetti molto caldi hanno temperature paragonabili a stelle più calde del nostro sole però essendo più piccoli hanno una superficie radiante molto minore e quindi appaiono molto meno luminosi in particolare le nane bianche più piccole sono molto poco luminose e l'unico modo per osservarli e con fenomeni gravitazionali e relativistici e alla fine di questa lezione vedremo bene quali sono le metodologie per scovare e osservare le nane bianche nonostante questo grafico ci mostra le caratteristiche principali delle dimensioni dell'ane bianche quindi sappiamo che la media delle dimensioni varia tra i 14 mila e i 12 mila chilometri ci sono comunque delle eccezioni ed è rilevante ricordare questo caso il caso della nebulosa manubrio distante circa 1360 anni luce dalla terra nella costellazione della volpetta è un residuo stellare chiamato m27 appunto conosciuto come nebulosa manubrio perché è così importante questo esempio perché all'interno abbiamo una nana bianca che ha un diametro di cinque volte e mezzo croterrestre circa 70 mila chilometri quindi è un peso massimo un'eccezione che però ci dimostra come alcune volte ci possono essere degli oggetti che fuoriescono da questo grafico va sempre ricordato che la massa di questo oggetto non supera le 1,44 masse solare altrimenti la gravità come abbiamo visto comprimerebbe la sua materia in una forma degenerata molto più estrema un minestrone di neutroni che trasformerebbe in una stella a neutroni quindi nonostante il diametro è molto fuori la norma sicuramente la sua massa non supera il limite di chandra sakkar andiamo avanti e vediamo com'è la composizione e struttura interna di questi oggetti dipende dalla loro massa le nane bianche più massicce possono arrivare a contenere anche ossigeno e carbonio quell'uomene massicce hanno invece elementi più leggeri dipende dal livello di nucleositesi stellare che ha raggiunto la stella originaria prima di completare l'intera fase di gigante rossa ma normalmente la maggior parte del volume di una nana bianca è occupato dal suo nucleo che ha una densità molto elevata come abbiamo già detto quelle che hanno una massa intermedia o più grande sono fatte di carbonio ossigeno ma in caso di masse più leggere gli elementi clinici centrali sono molto più leggeri le temperature all'interno sono molto elevate possono raggiungere anche i 10 milioni di gradi all'inizio del suo ciclo vitale e poi questa temperatura calare man mano che si va verso la superficie la densità del nucleo è molto elevata un metro cubo nella zona più interna può contenere una quantità di massa pari a 200 mila elefanti se calcolate che ogni elefante ha una massa media di 5 tonnellate potete benissimo fare i conti qui arriviamo addirittura ad almeno un milione di tonnellate per metro cubo quindi una densità molto elevata come già detto nelle nane bianche meno massicce all'interno del nucleo al posto di carbonio ossigeno possiamo trovare solamente elio mentre in quel più massicce appunto ossigeno carbonio neon e magnesio comunque elementi chimici della prima riga della tavola periodica o poco superiori poi a causa di questa intensa densità la forza di cavità è molto elevata e quindi la stratificazione chimica è molto definita perché la gravità separa in modo molto selettivo i limiti chimici in base alla loro densità tant'è vero che la sua atmosfera troviamo le sostanze più leggere il nucleo è avvolto da uno strato di elio ea sua volta c'è anche uno strato di idrogeno che a volte può anche mancare comunque la temperatura scende a pochi migliaia di gradi e come vedremo il suo raffreddamento può essere rallentato dal campo magnetico questo permette alla nana bianca di mantenere il suo calore per molto tempo e metteci veramente centinaia di miliardi di anni che potessi raffreddare ecco qui la sua struttura interna comunque la nana bianca non è un oggetto omogeneo ma è comunque differenziato per densità le sostanze chimiche più pesanti vanno all'interno quelle più leggere vanno all'esterno c'è da dire che in alcuni casi sono stati trovati le 20 chimici anche più pesanti ma non si sono generati durante la fase finale della stella al morente vedremo come alcune le bianche possono addirittura avere del ferro all'interno come fa una bianca ad avere del ferro al suo interno se il ferro si genera in stelle che poi danno origine a i neri o stelle a neutroni può capitare un fenomeno alcune volte una nana bianca è compagna di un sistema binario dove c'è un'altra stella magari in sequenza principale che le orbita attorno in alcuni casi la nana bianca può attirare materia dalla superficie della stella compagna con enormi fenomeni di marea tanto potenti da strappare letteralmente grandi quantità di plasma dalla superficie della stella compagna quando questo plasma si accumula sulla superficie può accumulare una massa critica che innesca di fatto delle vere e proprie reazioni termonucleari che dalla terra vediamo sotto forma di supernova di tipo 1a se queste reazioni termonucleari non riescono a distruggere la nana bianca conosciuta quindi come supernova fallita il ferro che viene generato in questa esplosione termonucleare precipita al centro della nana bianca a causa della sua alta densità per questo motivo alcune nane bianche possono avere addirittura metalli più pesanti del carbonio dell'ossigeno come appunto addirittura il ferro però comunque sia con quella pressione quella densità tutto quel carbonio che la maggior parte delle nane bianche a sicuramente è convertito in diamante infatti il diamante è una forma ad alta densità del carbonio quindi come già detto precedentemente in questa lezione la galassia è piena di questi giganteschi cristalli di diamante che tempestano tutto il cielo e che ovviamente a causa dell'intensa gravità e dei campi magnetici della temperatura di questi oggetti sono comunque materiali irraggiungibili e irreperibili però ci sono questi enormi cristalli di diamante diffusi in tutta la galassia quindi nonostante il diamante sia un minerale molto raro sulla terra ed è questo che lo rende molto prezioso nell'universo è una sostanza chimica molto diffusa proprio perché costituisce il cuore di tutte le nane bianche e come già detto prima la maggior parte delle stelle della galassia hanno dato origine e daranno origine a nane bianche perché la maggior parte delle stelle della galassia hanno una massa inferiore a otto masse solari quindi l'universo è pieno di questi giganteschi cristalli di diamante in tutte le galassie vista la struttura interna vediamo ora l'atmosfera con una temperatura di poche migliaia di gradi l'atmosfera è la parte più fredda ed esterna di una nana bianca studiandola si possono ricavare informazioni sulla sua evoluzione e composizione interna di solito è composta da elio ma può essere coperta da uno strato di idrogeno che nasconde quello che c'è al di sotto la fortissima gravità separa in modo molto rigido e netto gli elementi chimici a diverso peso specifico e l'atmosfera è il luogo in cui la nana bianca disperde il suo intenso calore nello spazio esterno esaminando la spettroscopia della radiazione di una nana bianca è possibile conoscere la sua composizione chimica a meno della superficie esterna dell'atmosfera e in molti casi si possono trovare tracce di elio e idrogeno ma anche altri elementi più pesanti questi elementi pesanti non sono originari della nana bianca ma possono essere presenti nello spazio intestellare e finire a inquinare la composizione chimica della nana bianca quindi a volte nello spettro elettromagnetico di una nana bianca troviamo elementi chimici più pesanti che sono sicuramente arrivati dall'ambiente esterno e che di fatto hanno inquinato sporcato l'originaria composizione chimica della sua atmosfera anche qui abbiamo alcuni casi particolari per esempio nella ngc 2440 una nebulosa planetaria della costellazione della poppa scoperta nel 1790 a 4000 anni luce della terra abbiamo questa nana bianca particolarmente ricca di elementi chimici più pesanti perché questo caso è particolare perché all'interno di questa nebulosa c'è una nana bianca di recente formazione vista la sua altissima temperatura infatti le nane bianche più calde sono le più giovani questa è la più calda conosciuta quindi un'eccezione con una temperatura superficiale di 200.000 gradi kelvin si stima che abbia una massa pari a 60 per cento di quella solare ma un diametro molto grande rispetto alla norma poco meno di 39 mila chilometri è una nana bianca da record sia per temperatura superficiale che per diametro però vi ricordo la sua massa non supera mai quella di chandra saken di 1,44 masse solari altrimenti si trasformerebbe in una stella neutroni poi abbiamo un'altra nana bianca che classificata con questo codice alfanumerico j 12 40 43 01 più 67 10 34 punto 68 ha una particolarità di avere una composizione atmosferica pare al 97 per cento di ossigeno questo fenomeno potrebbe essere spiegato con l'interazione di una stella compagna che con la sua gravità possa aver sottratto o strappato via l'atmosfera originaria di idrogeno ed elio di questa nana bianca e quindi avere scoperto gli strati più profondi composti da elementi chimici più pesanti appunto l'ossigeno e poi abbiamo il caso di una cometa che ha una massa di circa 100 mila volte quella di ali che è stata distrutta dalle forze mareali gravitazionali della nana bianca wd 14 26 più 540 quindi vedete tutte le informazioni che gli scienziati hanno ottenuto e ricavato studiando questi oggetti il campo magnetico delle nane bianche molto particolare perché è veramente molto intenso però anche un altro ruolo rallenta notevolmente la velocità di raffreddamento di questi oggetti infatti hanno notato che nelle zone della superficie dove il campo magnetico è più intenso la luminosità della nana bianca è più bassa proprio perché emette meno radiazione e quindi questi campi magnetici rallentano il raffreddamento di questi oggetti allungandone la longevità secondo gli scienziati il fatto che i campi magnetici siano così intensi è perché quando la stella collassa conserva tutto il suo flusso magnetico quindi un flusso magnetico che in una stella grande quanto il sole è dell'ordine di un gauss quando viene concentrato in un volume così piccolo arriva fino all'intensità di 2000 o un milione di gauss per darvi un'idea il campo magnetico terrestre ha un'intensità che varia tra 0 3 e 0 6 gauss quindi sono campi magnetici decine se non migliaia di volte più potente di quello a cui siamo abituati noi qui sulla terra come già detto i campi magnetici di una nana bianca limita di molto il loro processo di raffreddamento maggiore è l'intensità del campo magnetico minore sarà la sua luminosità ed emissione di calore di conseguenza questo allunga notevolmente la vita perché permette a questo astro di raffreddarsi molto più lentamente questa stella classificata con il codice galaxy 0 14 636.8 più 32 36 15 è una stella che si trova a 1200 anni luce di distanza il suo potente campo magnetico intrappola una magnetosfera a forma di ciambella costituita da materiale ionizzato emesso dalla stella e che l'avvolge come un anello quindi ci sono anche questi casi particolari molto curiosi dal punto di vista fisico infatti quando la materia è compressa così tanto come vedremo a breve genera fenomeni fisici e chimici molto particolari che non si possono riprodurre in laboratorio sulla terra e quindi ci permette anche gli scienziati di studiare il comportamento della materia in condizioni estreme se confrontiamo questo campo magnetico con quello solare vedremo le grandi differenze il nostro sole ha un campo magnetico ovviamente molto meno potente di una nana bianca dell'ordine di un solo gauss ma questo campo magnetico è sufficiente a generare tutti i fenomeni fisici e chimici che osserviamo dalla terra quando in un lontano futuro il sole sarà compresso in una nana bianca questo campo magnetico verrà compresso migliaia di volte fino a raggiungere i valori che oggi osserviamo nelle altre nane bianche i campi magnetici di due nane bianche possono fondersi insieme quindi la nana bianca risultante o l'oggetto risultante da questa fusione che potrebbe essere anche una stella neutroni se la somma delle masse supera i limiti di chandrasakhen genererà un campo magnetico molto più potente e qui vediamo una raffigurazione di due nane bianche che dopo un'orbita reciproca decadimento con la quale generano anche delle onde gravitazionali e questo lo vedremo in dettaglio più avanti una volta raggiunta la fusione possono fondersi in un oggetto unico se la somma delle masse supera il limite di chandrasakhen 1.44 masse solari le due nane bianche possono trasformarsi in una stella neutroni e qui vedremo nella lezione dedicata a questi oggetti tutte le caratteristiche di questo particolare astro possono esistere pianeti in orbita intorno alle bianche alcuni pianeti del sistema originario possono essere sopravvissuti alle fasi di sequenza finale della gigante rossa della stella originaria e continuare ad orbitare attorno alla nana bianca una volta che la nebulosa planetaria si è dissolta nello spazio sono stati trovati dei pianeti in orbita intorno alle bianche addirittura questi i pianeti sono molto antichi perché si sono formati insieme alla stella originaria che poi dà l'origine a nana bianca e sono sopravvissuti alla sua morte infatti è stato scoperto un pianeta che ha sicuramente un età di 12,7 miliardi di anni ovviamente parliamo di gigante cassoso che orbita attorno a un sistema doppio composto da una bianca e una stella neutroni quindi entrambe le stelle di questo sistema doppio hanno completato il loro ciclo vitale e in base al loro massa iniziale si sono trasformate in due astri post stellari diversi una nana bianca della stella meno massiccia e una stella neutroni per quella più massiccia la nana bianca è classificata con la sigla wd b1 620 26 mentre la stella neutroni è conosciuta con la sigla prs b1 620 26 questo ci fa pensare a quello che potrebbe avvenire nel nostro sistema solare quando il sole raggiungerà la fase gigante rossa i suoi stati più esterni ingloberanno l'orbita di mercurio e di venere e lambiranno quella terrestre questi pianeti verranno inglobati della stella la stessa terra subirà attrito con gli strati più esterni del sole e finirà in un'orbita decadimento fino a cadere dentro il sole quindi i primi tre pianeti del sistema solare terra compresa non sopravviveranno alla fase di gigante rossa solare marte diventerà il primo pianeta del sistema solare una volta che il sole avrà completato la sua fase gigante rossa almeno il 15 per cento delle nane bianche possiede dei pianeti superstiti ma la bassa luminosità di queste nane bianche ci impedisce di poterli osservare bene quindi è molto più difficile trovarli però qualcosa è stato scoperto e abbiamo il caso di w e 11 45 0 17 b osservato grazie al metodo del transito con cui oscura periodicamente la sua nana bianca sembra essere di natura rocciosa situato a circa 570 anni luce della terra è stato il primo oggetto scoperto con metodo di transito attorno a una nana bianca nel 2015 quindi le tecnologie sviluppate per cercare i pianeti attorno ad altre stelle si stanno sviluppando ed evolvendo anche per cercare i pianeti attorno alle nane bianche che sono oggetti molto meno luminosi possono questi pianeti essere abitabili è possibile che attorno a una bianca ci sia vita visto che le nane bianche sono sorgenti di luce calore stabili per molto tempo potrebbero essere un ambiente idoneo alla vita quello che dobbiamo cercare è capire se possono esistere pianeti alla giusta distanza per poter ospitare acqua liquida in superficie e quindi avere un ambiente idoneo alla vita così come l'abbiamo visto sulla terra però visto che le nane bianche sono oggetti molto piccoli per avere il giusto raggiamento di calore i pianeti dovrebbero essere molto vicini quindi non possono essere pianeti che originalmente orbitavano così vicino alla stella originaria perché pianeti così vicini già originalmente sarebbero stati sicuramente distrutti dalla fase di gigante rossa della stella morente allora per trovare i pianeti abitabili così vicini a una bianca si deve per forza immaginare che pianeti originariamente più lontani del sistema planetario originario quindi che sono sopravvissuti alla fase di gigante rossa siano poi migrati tramite interazioni gravitazionali su orbite molto più vicine più interne tanto da ricevere quella giusta energia quindi al limite teorico potrebbe essere successo qualche caso limite in cui un pianeta sopravvissuto alla fase di gigante rossa si sia poi avvicinato nella zona abitabile di una nana bianca e come sono queste zone abitabili sono molto strette tant'è che qui vediamo in questo grafico che una nana bianca a una zona talmente stretta che un pianeta per stare alla giusta distanza dovrebbe completare la sua orbita nell'arco di poche ore essendo oggetti molto piccoli con temperature superficiali molto più caldo di quella del sole bisogna essere appunto molto vicini per rientrare nella zona di abitabilità di questi oggetti mediamente la zona abitabile di una nana bianca va dallo 0 5 al 2 per cento della distanza che c'è tra la terra e il sole e questi dati valgono per una nana bianca che ha una temperatura superficiale di almeno 10 mila gradi kelvin ma come abbiamo visto le temperature possono essere anche più elevate quindi le zone abitabili possono essere anche più larghe ipoteticamente un pianeta che per qualche motivo è finito a orbitare così vicino a una nana bianca potrebbe avere la giusta riserva energetica per molto tempo per poter mantenere acqua liquida in superficie e avere i giusti tempi geologici per poter sviluppare la vita quindi teoricamente è possibile e visto che l'universo è molto grande e ha tantissime possibilità tutto quello che è chimicamente fisicamente possibile da qualche parte ha certamente avuto la probabilità di verificarsi e quindi probabilmente da qualche parte la vita ha trovato modo di ferire anche attorno a una nana bianca e ci sono buone possibilità perché sono stati trovati i pianeti anche con orbite molto più strette di quella che servirebbe per stare la zona abitabile quindi in realtà già sono stati scoperti i pianeti che possono essere tanto vicini alle loro nane bianche in particolare questo pianeta che è troppo vicino alla sua nana bianca per poter essere la zona abitabile è comunque stato scoperto si chiama w e 11 45 più 0 17 b impiega 4 ore 30 minuti per completare un'abita completa attorno alla nana bianca e da questa vista circa 0,04 unità astronomiche più o meno due volte la distanza che c'è tra la terra e la luna quindi questo veneta è troppo vicino alla sua nana bianca che potrà essere abitabile però dimostra che pianeti sopravvissuti alla fase di gigante rossa possono avvicinarsi molto alla nana bianca e qualcuno potrebbe anche capitare su un'orbita che calza perfettamente nella zona abitabile di queste stelle ormai estinte cambiamo ora argomento e vediamo cosa le nane bianche ci possono insegnare della fisica infatti le nane bianche sono astri in cui la materia si trova in condizioni particolari di pressione e temperatura che sono praticamente irriproducibili sulla terra e questo ci permette di vedere dei fenomeni fisici e anche chimici con i quali gli scienziati possono confermare le loro teorie sullo spazio sul tempo e sulla materia stessa quindi sono dei veri e propri laboratori cosmici gli atomi sono soggetti a condizioni estreme di temperatura e pressione e la materia si comporta in modo particolare infatti osservando questi oggetti ultradensi oggi sappiamo che la materia può trovarsi nelle condizioni estreme in tre modi particolari dentro le nane bianche abbiamo questi atomi molto vicini in una forma di dipoplasma dove gli elettroni esterni vengono liberati e sono libri di muoversi dagli atomi ma comunque questi sono ultra compatti e adesso li vedremo a breve in dettaglio poi all'aumentare della pressione gli elettroni sono costretti a fondesi con i protoni trasformandosi in neutroni e tutti gli atomi diventano una massa senza soluzioni di continuità di neutroni l'oggetto si trasforma da rana bianca in stella neutroni e ovviamente lo spazio occupato è molto minore e l'oggetto nonostante sia più massiccio comunque occupa un volume minore quindi acquisisce una densità maggiore a un'ulteriore compressione quindi dovuto ad aumento di massa l'oggetto si trasforma in un buco nero in un buco nero non sappiamo esattamente cosa succede alla materia ma quello che ci dicono i modelli teorici quindi le formule matematiche e che la materia viene compressata in un punto infinitesimale a densità infinita cosa voglia dire non lo sappiamo questo punto viene chiamato singolarità non lo possiamo vedere perché si trova all'interno dell'orizzonte degli eventi di un buco nero quindi secondo i calcoli matematici la materia acquisisce una densità infinita in un punto senza dimensioni ma ovviamente a livello pratico non si sa esattamente cosa questo voglia dire perché non è possibile osservare all'interno di un buco nero e vedere che cosa avviene in questa singolarità torniamo al concetto di stella neutroni in cui vi ricordo che gli atomi sono compressi e gli elettroni vengono spinti a occupare meno spazio possibile intorno al nucleo quelli più esterni vengono liberati a formare la stato di plasma quelli più interni invece rispettando il principio di esclusione di poli possono essere densati due a due nello stesso orbitale a patto che nello stesso orbitale i due elettroni abbiano spino opposto questa forza repulsiva tra gli elettroni impedisce che la stella possa collassare ulteriormente quando la stella supera la massa critica del limite di chandrasakhen di 1.44 masse solari questa forza repulsiva tra elettroni non funziona più non è più sufficiente a contrastarla e gli elettroni vengono costretti a fondersi con i protoni del nucleo e trasformandosi in neutroni la nana bianca si trasforma in una stella a neutroni parleremo delle stelle a neutroni in modo molto dettagliato in una prossima lezione la densità all'interno di questa nana bianca è così alta che un centimetro cubo di materia accumula l'equivalente di 10 tonnellate quindi è tanta materia in poco spazio la densità è molto elevata per questo avviene solamente se la materia si manifesta sotto forma di plasma dove gli atomi sono ionizzati ovvero gli elettroni più esterni sono dissociati dall'atomo quindi dai nuclei e questi si muovono in tutte le direzioni in modo libero quindi qui abbiamo una rappresentazione con gli atomi ionizzati e gli elettroni che sono liberi di muoversi in mezzo a loro comunque lo spazio tra gli atomi è molto ridotto perché quella pressione molto elevata ma vi ricordo che gli elettroni più interni degli atomi che non si sono dissociati con la loro forza repulsiva impediscono il collasso della materia fino a quando la stella non supera i limiti di chandrasakhen la materia riesce a mantenersi stabile sotto questa forma oltre questo limite tutto collassa in una stella neutroni le nane bianche non stanno bruciando nulla sono solamente degli oggetti molto caldi per incandescenza oggetti che hanno accumulato molto calore e che lo rilasciano lentamente nel tempo quindi non sono oggetti che producono energia semplicemente si stanno raffreddando ma lo fanno molto lentamente una giovane nana bianca appena nata è molto calda perché ha il massimo di calore accumulato dalla sua vita precedente e normalmente si trova nell'ordine di 100 mila gradi kelvin anche se come abbiamo visto ci sono casi particolari in cui alcune stelle arrivano anche fino a 200 mila gradi kelvin con il passare il tempo questa stella comincia a raffreddarsi ma i campi magnetici come già detto possono rallentare questo processo ci sono zone della stella dove i campi magnetici sono molto più intensi e questo limita l'irraggiammimento nello spazio di questo calore quindi i campi magnetici così intensi rallenta nel processo di raffreddamento e allungano la vita media delle nane bianche ma inesorabilmente la nana bianca è destinata a raffreddarsi e questa perde calore nel tempo attraverso la sua atmosfera nelle bianche che si raffreddano cominciano a cambiare colore da bianche diventano giallastre e poi man mano più rossastre miliardi di anni dopo il raffreddamento porta la stella ad avere appunto un aspetto di colore rossastro vi ricordo che secondo la scala delle temperature i colori bianchi sono più caldi mentre giallo arancione e rosso sono i colori a temperature più basse una volta che tutta l'energia termica della stella viene persa questa non emetterà più luce calore e diventerà una nana nera rimanendo per sempre così nel grafico hr che abbiamo visto già precedentemente la sequenza principale di una nana bianca si trova più in basso rispetto alla sequenza principale delle stelle perché nonostante abbiano le stesse temperature di molte stelle sono molto meno luminose perché essendo più piccole hanno una minor superficie radiante e quindi appaiono più in basso rispetto a questo grafico e col passare del tempo la loro evoluzione li porta verso un angolo qui in basso a destra del grafico dove in futuro ci saranno le nane nere dico in futuro perché oggi non esistono ancora le nane nere i tempi di raffreddamento sono così lunghi che da quando si è formato l'universo nessuna nana bianca ha avuto ancora il tempo di raffreddarsi completamente e diventare nana nera ma l'evoluzione delle nane nere li porta a scendere nel tempo lungo questa direzione dalle più calde in alta sinistra alle più fredde in basso a destra fino ad arrivare in fondo al grafico dove i parametri danno basse temperature superficiali e bassa luminosità da notare che l'evoluzione delle nane bianche si muove in direzione opposta rispetto all'evoluzione delle stelle in sequenza principale questo perché nelle bianche sono oggetti in raffreddamento le stelle durante la sequenza principale sono oggetti in riscaldamento perché con l'invecchiamento le stelle diventano sempre più calde le nane bianche ci permettono di datare l'età degli ammassi globulari gli ammassi globulari sono gli oggetti più antichi della galassia quindi contengono anche le stelle più antiche ed essendoci molte stelle antiche molte di queste avranno sicuramente completato la loro sequenza principale e si saranno già trasformate in nane bianche quindi dal numero e dalla densità delle nane bianche è possibile capire quanto è vecchio questo ammasso qui si vede un ingrandimento dell'ammasso e ci sono qui puntate le nane bianche sono tantissime sono tante le stelle di questo ammasso che hanno completato il loro ciclo vitale e sono diventate nane bianche abbiamo detto che nel grafico hr le nane nere dovrebbero occupare uno spazio qui in basso a destra ma ancora non esistono non sono state ancora osservate perché secondo i modelli teorici il processo finale di raffreddamento di una nana bianca si dovrebbe completare nell'arco di mille miliardi di anni e altri modelli addirittura ci dicono 10 alla 36 anni è un periodo molto più lungo dei 13,8 miliardi di anni che è l'attuale età dell'universo quindi l'universo non è ancora abbastanza vecchio da ospitare le nane nere perché da quando si è formato non c'è stato abbastanza tempo affinché nessuna nana bianca abbia ancora completato il suo lungo processo di raffreddamento quindi praticamente da quando si è formato l'universo nessuna stella esaurita trasformate nana bianca ha ancora mai raggiunto lo stadio finale di nana nera oggi sappiamo che le nane bianche raggiungeranno questo stadio in un lontano futuro ma nessuna delle nane bianche oggi esistenti l'ha già raggiunto vediamo adesso un altro interessante fenomeno di questi astri la variazione della loro luminosità ci sono nane bianche che modificano periodamente la loro luminosità anche per pochi secondi anche per breve intensità ma che comunque segnalano variazioni al loro interno infatti non tutte le nane bianche sono uguali alcuni manifestano variazioni intense di luminosità altre meno intense ma la maggior parte oscilla in un periodo che va da pochi secondi a pochi minuti con piccole variazioni relative di luminosità si possono classificare diverse tipologie di nane bianche in base al loro tipo di variabilità e secondo gli scienziati queste sono dovute a oscillazioni gravitazionali quindi a variazioni interne di queste stelle per esempio le variabili zz aceti sono di tipo spettrale di a sono nane bianche con temperature superficiali comprese tra i 10.700 e i 12.500 gradi kelvin mentre le stelle dvb hanno una temperatura superficiale di circa 25 mila gradi d'altra parte le stelle gw virgins hanno temperature superficiali che vanno tra i 75 mila e i 100 mila gradi kelvin con abbondante carbonio ossigeno ed elio nella loro atmosfera per tutte queste ragioni le nane bianche pulsanti sono considerate come le diverse fasi attraverso le quali una nana bianca normale attraversa durante il suo raffreddamento quindi in diversi stadi del suo punto di raffreddamento le nane bianche hanno diverse tipologie di oscillazioni nella loro luminosità e questo sicuramente dovuto a oscillazioni di natura gravitazionale la classificazione delle nane bianche variabili utilizza la stessa nomenclatura già vista precedentemente ma aggiunge la lettera v ad ogni siga di classe per specificare la sua caratteristica variabile qui vediamo alcuni casi questa è la curva di luminosità della nana bianca gd 358 come potete vedere ci sono diverse oscillazioni nell'arco di un ora quindi sono molto rapide ancora abbiamo la curva di luce della hl tau 76 qui addirittura vediamo che invece sono più lente le oscillazioni nell'arco di un giorno ne abbiamo al massimo due ogni nana bianca ha il suo periodo che comunque uscilla da pochi minuti e secondi fino a poche ore ci sono poi i casi in cui le nane bianche possono avere variazioni di luminosità molto intensa in quel caso dobbiamo considerare un compagno che fornisce materia alla nana bianca e per questo motivo vediamo il caso delle binarie a raggi x le binarie a raggi x sono sistemi formati da due corpi vicini che ovviamente interagiscono tra loro nel quale una è una stella in sequenza principale l'altro è un oggetto ultra compatto che può essere una nana bianca una stella neutroni oppure un buco nero vediamo quindi la stella accompagna il flusso di materia che per forze ma reali viene sottratto alla stella in sequenza principale o meglio ancora se espansa sotto forma di gigante rossa al disco di accrescimento che questo flusso di materia sottratto dalla compagna meno densa va a formare intorno all'oggetto più denso e poi l'oggetto ultra compatto che come ho detto può essere una nana bianca una stella neutroni oppure un buco nero in determinate condizioni i campi magnetici generati dal disco di crescimento possono concentrare una parte del flusso di materia che per forza centrifuga non riesce a cadere dentro l'oggetto compattato ma anzi viene espulso fuori genera due oggetti di plasma o anche getti relativistici che sono perpendicolari al piano del disco del crescimento e orientati lungo i poli del suo campo magnetico qui vediamo il caso del sistema x 9 che è costituito da una nana bianca che orbita attorno a un buco nero in meno di 28 minuti nel caso di questo sistema doppio l'oggetto più compatto è il buco nero mentre l'oggetto meno compatto è una nana bianca quindi vedete che questo rapporto di sistema binario raggi x può essere relativo sono due oggetti diversi a diversa densità che per questo motivo sviluppano questo rapporto di scambio di materiale dall oggetto meno denso all'oggetto più denso e proprio nel caso di x 9 l'oggetto meno denso stavolta non è una stella in sequenza principale una gigante rossa ma proprio una nana bianca che cede materiale a un oggetto molto più compatto che appunto è un buco nero ed è il buco nero che per effetto mareale sottrae materia alla nana bianca il meccanismo è lo stesso cambiano solamente gli attori perché cambiano i rapporti di forza tra le loro gravità quindi il disco di accrescimento attorno al buco nero è ottenuto dalla sottrazione per forza mareale di materia dalla superficie della nana bianca questo oggetto lo troviamo nella masso globulare 47 tucane a 14.800 anni luce da qui la distanza tra questi due oggetti è cinque volte la distanza tra la terra e la luna e nel disco di accrescimento c'è molto ossigeno perché il buco nero ha sottratto già gli strati più esterni di idrogeno ed elio della nana bianca e ha cominciato a intaccare gli strati più profondi costituiti appunto da ossigeno e carbonio quindi vediamo anche questa caratteristica chimica di questo disco di accrescimento che normalmente invece di essere di idrogeno ed elio come la maggior parte dei casi in questo caso invece è costituito proprio da ossigeno segno che la nana bianca è stata già in gran parte consumata e che ora il buco nero sta scavando nei suoi strati più profondi il rapporto gravitazionale che c'è tra due oggetti il meno compatto è più compatto è più o meno questo c'è una sfera intorno all'oggetto meno compatto chiamato lobo di rock praticamente è il limite oltre il quale prevale la forza di gravità dell'oggetto meno compatto oltre questo limite la materia dell'oggetto meno compatto viene risucchiato dalla forza gravitazionale dell'oggetto più compatto e tende a concentrarsi lungo un flusso chiamato appunto flusso di materia che va ad alimentare un disco di accrescimento intorno all'oggetto più compatto che come ho detto non deve essere necessariamente una nana bianca ma anche una stella neutroni o un buco nero la materia sottratta si organizza in un disco di accrescimento che per effetto di attrito diventa sempre più luminosa e più caldo man mano che si avvicina all'oggetto compattato fino a emettere radiazioni molto intense come raggi x raggi gamma la creazione di materia può portare all'attivazione regolare di reazioni nucleari e formare delle nove infatti che cosa succede quando la materia in caduta sull'oggetto meno compatto raggiunge una massa critica può innescare delle reazioni nucleari queste lezioni nucleari possono trasmettersi lungo la superficie dell'oggetto più compattato come una reazione a catena e generare una vera e propria esplosione ci sono due tipi di esplosioni in base alla massa critica se la massa critica è di tipo basso abbiamo una semplice nova in cui abbiamo una reazione nucleare che si limita alla superficie della bianca e abbiamo una semplice esplosione se invece la massa critica supera un altro valore particolare l'esplosione può essere tale da distruggere completamente la bianca e questa supernova viene chiamata supernova tipo 1 a se questa supernova di tipo 1 a non riesce a distruggere una bianca chiamata appunto supernova fallita la nana bianca si arricchisce di elementi ancora più pesanti di carbonio ossigeno che si formano durante questo evento e per questo che a volte alcune nane bianche possono contenere addirittura del ferro che non sono elementi prodotti durante la fase finale della stella nella sua vita precedente prima di diventare una bianca ma che si sono formati in questo evento di supernova 1 a fallita che non ha distrutto la nana bianca andiamo avanti e vediamo molti fenomeni di questo tipo queste super 9 di tipo 1 a o anche supernova e normali sono degli episodi con una luminosità talmente elevata che a volte riescono a superare la luminosità stessa della galassia che li ospita qui vediamo una foto di andromeda che è la galassia più vicina a noi si trova a 2 milioni e 200 mila anni luce da qui all'interno di questa galassia sono state spesso osservati questi lampi molto luminosi ad altre energie in particolare raggi x come potete vedere qui che evidenziano questi fenomeni in cui in un sistema binario un oggetto molto compatto sottrae materia all'oggetto meno compatto che come abbiamo visto nel caso dei sistemi x 9 non deve per forza essere una stella in sequenza principale e una nana bianca ma anche una nana bianca e un buco nero quindi il rapporto di compattezza è relativo tra i due oggetti del sistema binario durante questi fenomeni di super 9 in cui l'oggetto compatto accumula una massa critica in superficie che genera una reazione nucleare catastrofica abbiamo queste intense radiazioni ad alta energia e si possono vedere addirittura da galassie molto lontano qui vediamo alcuni fenomeni addirittura qui vediamo lo stesso vento che si evolve durante alcuni mesi da 7 gennaio del 2012 fino all 8 agosto dello stesso anno vedete che c'è questa variazione di luminosità che dura diversi mesi e che addirittura riesce ad essere luminoso quanto tutto il nucleo galattico di andromeda stessa sono tantissimi comunque i fenomeni che vengono viste in continuazione e che vengono catalogati all'inizio gli scienziati non riuscivano a capire che cosa fossero questi lampi così luminosi ma oggi sappiamo che sono spesso eventi di super 9 di tipo 1 a e questi eventi che come vedete si sviluppano in pochi giorni o poche settimane possono immettere tanta energia quanto il nostro sole riesce a fare nel suo intero ciclo vitale di 10 miliardi di anni quindi sono eventi molto energetici quindi visto che questa reazione è incentrata sulle nane bianche vediamo quali sono i fenomeni di variazioni cataclismiche che possono essere generate da questi astri che sono appunto le 9 le meno intense limitate solo alla superficie e le supernove di tipo 1 a che come vedremo partono dal nucleo della nana bianca e poi si espandono fine superficie come un'erruzione spesso anche distruggendo completamente l'astro cominciamo dalla prima il fenomeno delle nove in cui l'assorbimento di materia da parte della nana bianca può superare un limite di massa critico che innesca reazioni di fusione nucleari catastrofiche questo fenomeno si chiama nova l'energia improvvisa rilasciata dell'ordine di 10 alla 39 joule maggiore di quella emessa da sole in un solo anno e questo fenomeno lo vediamo qua per esempio la nebulosa gk per 6 è un nebulosa generata da questo evento si vedono i resti lanciati dalla nuova che sono ancora visibili dalla sua ultima esplosione avvenuta un secolo prima quindi questa evoluzione di una supernova a 100 anni dopo il suo avvenimento si può osservare bene ai raggi x perché essendo ancora molto calda ed energetica gran parte della sua radiazione è ancora emessa in raggi x poi a causa dell'interferenza al campo magnetico la maggior parte del materiale espulso viene rilasciato lungo i poli mentre sulla fascia equatoriale la sua espansione viene rallentata o in qualche modo ostacolata dal campo magnetico della nana bianca e questa è semplicemente il fenomeno di nova con un'energia rilasciata pari a 10 alla 39 joule poi vedremo che questa energia è sempre la stessa e permette spesso agli astronomi di poter misurare le distanze lontane dello spazio abbiamo già visto questo concetto in passato ma lo vedremo anche in altre lezioni ancora che differenza c'è tra un evento di nova e un evento di supernova tipo 1a in questo caso sulla stella il materiale accumulato supera il limite di chandrasakhen e quindi la stella genera un evento molto più violento con emissioni energetiche maggiori che non sono raggi x ma sono raggi gamma ovvero una radiazione elettromagnetica molto più energetica di raggi x qui vediamo alcuni eventi che sono stati registrati con la loro magnitudine energetica e gli anni in cui sono avvenuti addirittura questi eventi si ripetono perché una volta che la stella ha avuto il suo evento di supernova se questo evento non distrugge completamente la nana bianca ma anzi quest'ultima sopravvive all'evento ricomincia a succhiare materia dalla stella compagna meno espansa e si ritrova per una condizione di riaccumulare nuovamente una quantità di materia che supera la massa critica di chandrasakhen e quindi di rigenerare uno nuovo evento di supernova tipo 1a quindi questi eventi si possono anche ripetere regolarmente nel tempo nello stesso sistema binario e qui vedete tutte le registrazioni degli eventi che sono stati osservati addirittura alcuni risalgono al diciannovesimo secolo quando ancora gli scienziati non sapevano di che cosa si trattasse li hanno registrati hanno osservati ma non sapevano che cosa fossero ma oggi invece abbiamo molti strumenti molti telescopi molti osservatori robotizzati che non si trovano sulla terra ma sono in orbita fuori dell'atmosfera terrestre e che possono osservare questi oggetti molto meglio senza il filtro atmosferico infatti per nostra fortuna l'atmosfera blocca i raggi camera gix altrimenti saranno morti però per poter osservare questi oggetti è un dramma quindi posizionare osservatori su satelliti o telescopi spaziali ci permette di poterli osservare al meglio perché non c'è il filtro atmosferico che assorbe la reazione gamma e i raggi x e queste sono le diverse osservazioni ottenute da questi strumenti in cui si vedono molto bene queste intense emissioni di raggi gamma ed è proprio telescopio spaziale fermi della nasa che ha collegato diversi episodi di nova con il rilascio di raggi gamma che sono appunto queste radiazioni molto energetiche l'origine di queste emissioni ad alte energie potrebbe essere causata da particelle emesse con l'esplosione che le spinge a velocità molto vicine a quelle della luce vediamo un caso particolare di queste variazioni cataclismiche che sono le supernove di tipo 1a sono esplosioni termonucleari quando in una sistema binario l'oggetto più denso accumula abbastanza materia da superare il limite di chandrasakhen ovvero 1,44 masse solari quando questo avviene gli elettroni che compongono gli atomi della lana bianca non riescono più a mantenere la pressione e all'interno della stella l'ossigeno e il carbonio che compongono il suo nucleo reagiscono in nuove reazioni di fusione termonucleare generando ferro e silicio questa esplosione risale verso la superficie in modo non omogeneo quindi emerge in superficie come una gigantesca eruzione e si trasmette con una reazione a catena in tutta la superficie visto che questa eruzione non è simmetrica ma anzi è asimmetrica questa va a distruggere completamente la stella tant'è vero che l'esplosione può lanciare materiale tra 5 mila e 20 mila km al secondo che rappresentano più o meno il 6 per cento della velocità della luce ed è con questa esplosione che la nana bianca viene distrutta e fatta a pezzi quando questa esplosione non riesce a distruggere la nana bianca il fenomeno si chiama supernova fallita e gli elementi chimici come ferro e silicio diventano parte integranti della nana bianca quindi è per questo motivo dopo questo fenomeno che possiamo trovare nane bianche che contengono ferro e silicio quelle cioè che sopravvivono agli eventi di tipo supernova 1a questi eventi sono talmente luminosi che riescono a eguagliare la luminosità della galassia che li ospita qui vediamo una supernova di tipo 1a che brilla con una luce paragonabile al nucleo galattico della galassia che la ospita e questo è un fenomeno molto importante con questo fenomeno è possibile misurare la distanza di queste galassie perché gli astronomi conoscono benissimo la quantità di energia e quindi anche di luce rilasciate da questi fenomeni e misurando la luminosità apparente di questa luce è possibile capire quanto è distante questa galassia quindi spesso le supernovae di tipo 1a sono uno strumento molto importante per poter misurare la distanza reale ed effettiva di galassie lontane possiamo vedere i resti di alcuni questi fenomeni avvenuti di recente per recente intendo recente con tempi geologici qui abbiamo la nube gc 299 2 2.9 che il resto di una supernova di tipo 1a esplosa circa 4500 anni fa quindi vedete che quando dico recente è un recente relativo cioè relativo all'età delle stelle per noi 4500 anni sono tanti per una stella è praticamente l'altro ieri andiamo avanti abbiamo la supernova sn 1600 chiamata così perché è stata osservata all'inizio dell'anno 1600 ed è stata la supernova più brillante registrato fino ad ora dalla storia all'epoca i cinesi erano una civiltà molto evoluta e molte registrazioni storiche di questi eventi li abbiamo proprio grazie agli astronomi cinesi questa nebulosa oggi si trova a 7200 anni luce di distanza e si è formato in un sistema binario composto da due nane bianche i raggi cosmici provenienti da eventi come questi pervadono lo spazio e colpiscono anche la terra però per fortuna noi che viviamo sulla superficie siamo protetti sia dal campo magnetico terrestre che dall'atmosfera gli astronauti o le sonde spaziali che si avventano lo spazio interplanetario sono costantemente bombardati da queste particelle infatti uno dei rischi a cui un'ipotetica missione su marte potrebbe esporre gli astronauti sono proprio questi lunghi periodi di permanenza nello spazio interplanetario esposti a queste radiazioni cosmiche che sono di fatto generate da questi eventi e pervadono tutto lo spazio qui vediamo una fotografia reale e qui una elaborazione al computer di questa fotografia che mostra le varie caratteristiche che raccompongono dalle zone dove c'è un'emissione di raggi cosmici sincrotronici quindi particelle cariche molto accelerate un fronte d'onda d'urto che vediamo qui giù in basso e regioni in cui ci sono la miscelazione di diverse zone di questa nebulosa addirittura è stata scoperta una nebulosa interstellare molecolare che è stata colpita e che sta interagendo con l'espansione di questa supernova qua addirittura c'è una produberanza ovvero una zona che si espande più velocemente rispetto alle altre quindi vedete quanto sono complessi questi fenomeni e come oggi vengono studiati nel dettaglio addirittura si riesce a vedere il regime di turbolenza con cui le varie parti della nebulosa si espandono verso l'esterno vi ricordo che questo evento è avvenuto poco più di mille anni fa e quindi questo è come appare un evento di supernova mille anni dopo la sua esplosione ci vorranno ancora millenni prima che tutto questa nebulosa si dissolva completamente nello spazio interstellare ancora parliamo della sn 1604 sono i resti di un'esplosione scoperta nel 1604 conosciuta anche come supernova di cheplero dalle documentazioni storiche sappiamo che fu visibile nel cielo occhio nudo per oltre un anno per ora è l'ultima supernova osservata nella nostra galassia quelle successive sono infatti esterne vi ricordo che anche nel medioevo o i secoli prima in varie parti del mondo le varie cività del mondo hanno documentato questi eventi astronomici perché quando avvenivano queste stelle apparivano molto luminose nel cielo a volte addirittura avranno visibili anche durante il giorno e quindi ovviamente gli astronomi dell'epoca hanno registrato documentando questi eventi e questi documenti oggi sono arrivati fino a noi poi c'è sn 185 sembra essere stata la prima supernova descritta in documenti storici e discorso che appena fatto l'esplosione risale addirittura all'anno 185 dopo cristo quindi a quasi duemila anni e appunto gli astronomi cinesi che all'epoca era una civiltà molto più evoluta di quella occidentale registrarono la sua posizione in un'opera del quinto secolo il libro di anna posteriori gli astronomi identificano questa nebulosa come i suoi resti spesso queste documentazioni si trovavano o in documenti religiosi oppure addirittura all'interno di opere letterarie ancora abbiamo la g 19 03 avvenuta tra il 1890 e 1908 e non è avvenuta nella nostra galassia e ancora un altro evento nella nube di magellano dove c'è questa forma irregolare in espansione anche questa non si trova all'interno della nostra galassia questa in particolare si trova in una delle due nubi di magellano che sono due piccole galassie satelliti che come due piccole lune orbitano intorno alla via lattia ora detto questo vediamo l'ultimo argomento di questa lezione come è possibile oggi scoprire e osservare le bianche infatti le loro piccole dimensioni le rendono di difficile osservazione perché nonostante siano molto calde e quindi emettono molta luce la loro piccola dimensione fa sì che la superficie di emissione luminosa sia piccola e quindi nonostante siano luminose complessivamente emettono poca luce ed è molto difficile osservarle allora per osservare questi oggetti sono stati utilizzati altre metodologie come appunto l'osservazione di effetti relativistici che queste generano vediamo il caso del sistema 40 lidani infatti qui vediamo la mappa del sistema dove c'è una nana rossa dei pianeti che girano intorno e poi una nana bianca e un'altra nana rossa questa nana bianca aveva una luminosità modesta ma un intenso colore bianco che mostra la sua alta temperatura vi ricordo che il bianco è la luce di un oggetto molto più caldo il nostro sole il nostro sole è giallo e non supera i 6 mila gradi kelvin oggetti bianchi arrivano anche a temperature di 15 mila gradi kelvin però essendo piccola la luce complessiva emessa non era molta ma il colore bianco fu un indizio importante per poter scoprire questo astro questo oggetto è stato osservato per la prima volta nel 1783 da william herschel e nel 1914 fu identificato come nana bianca dall'astronomo americano walter adams era piccola ma insolitamente massiccia e calda quindi un oggetto diverso dalle stelle che gli astronomi erano abituati a conoscere questo oggetto è un bel po più grande della terra qui lo vediamo a confronto con il nostro pianeta e insieme al suo sistema si trova a circa 16 anni e mezzo luce di distanza da noi la bassa luminosità delle altre stelle che appunto erano nane rosse ha permesso di osservare abbastanza bene questa nana bianca normalmente nei sistemi binari la nana bianca è molto poco luminosa rispetto all'altra stella compagna in sequenza principale e per questo motivo spesso sono coperte dalla loro luce il rilevamento avviene spesso con le interazioni gravitazionali e le manifestazioni relativistiche che le nane bianche effettuano con la stella compagna c'è il caso particolare di sirio a e b sirio a è una stella bianca molto luminosa estero b è una bianca molto piccola le temperature magari sono anche simili ma essendo molto piccola la nana bianca emette molto meno luce della compagna in sequenza principale questa è una rappresentazione artistica ma questa è una fotografia qui vediamo una foto osservata al telescopio a ball dove c'è sirio a la stella molto luminosa in sequenza principale e qui piccolina sirio b la nana bianca se lo b a una temperatura superficiale di ben 25 mila gradi kelvin quindi è molto più calda del nostro sole che vi ricordo è di 5.500 gradi kelvin quindi addirittura cinque volte più calda del sole ma essendo a malapena piccola come la terra emette molta meno luce sirio b in particolare è anche la nana bianca più massiccia a noi vicina si trova a otto anni luce di distanza ed ha una massa simile a quella del nostro sole ci sono molte altre nane bianche intorno a noi in un raggio di circa 30 anni luce distanza sirio si trova qui a otto anni luce però nella maggior parte dei casi la massa della trene bianche rappresenta circa il 70 per cento di quella solare sirio b è tra quelle conosciute è la più massiccia con una massa praticamente simile a quella del nostro sole però vedete quante sono le nane bianche così vicine in particolare sono state studiate osservate prevalentemente le nane bianche più vicine proprio perché sono le meno luminose osservare nane bianche più lontane o in tutta la classia è molto più difficile perché sono molto poco luminose poi in particolare le nane bianche che non fanno parte di un sistema binario e che orbitano intorno al nucleo galattico per conto proprio sono ancora più difficili da vedere perché non hanno una stella compagna con cui poter osservare fenomeni relativistici infatti proprio all'inizio del ventesimo secolo einstein scoprì la natura dello spazio tempo e alcuni fenomeni che questa poteva causare alla luce ad esempio l'effetto di lente gravitazionale è stato einstein a scoprire che la gravità di una stella potesse deviare il percorso della luce di una stella retrostante e proprio grazie a questa metodologia oggi vengono osservate le lane bianche quando una bianca passa accanto alla stella compagna ne devia la luce e questo fenomeno fu osservato per la prima volta nel 2017 grazie al sistema binario stein 2051 b a 18 anni luce da noi infatti le osservazioni effettuate tra il 2013 e 2014 hanno permesso poi successivamente nel 2017 di poter misurare la massa della nana bianca proprio grazie al fenomeno di lente gravitazionale misurato grazie alla deviazione che questa faceva con la luce della compagna in sequenza principale che è appunto una nana rossa e proprio grazie a questa tecnica gli astronomi hanno potuto misurare la massa della nana bianca oggi questa è una tecnica molto utilizzata e fenomeni proprio relativistici sono la metodologia principale per poter misurare la massa di questi oggetti qui vediamo il caso dei sistema coi 32 78 a 2600 anni luce di distanza dove fu osservata per la prima volta l'effetto di lente gravitazionale in cui la nana bianca deformava l'immagine della stella compagna in sequenza di gigante rossa davanti cui transitava in particolare va sempre ricordato che questo fenomeno è possibile osservarlo quando abbiamo il giusto punto di vista dalla terra ovvero è possibile osservare questo fenomeno quando dalla terra la prospettiva permette di vedere il transito dei due getti se i due getti non sono allineati in modo giusto con la terra non c'è transito e quindi non è possibile osservare questo fenomeno quindi la maggior parte di queste osservazioni richiedono la necessità di una prospettiva in linea di osservazione con la terra altrimenti il fenomeno non avviene qui vediamo una grafica che mostra come avviene dove il transito della nana bianca davanti e dietro la stella compagna causa una variazione rilevabile di luminosità del sistema si assiste a un abbassamento di luminosità del sistema doppio quando la nana bianca viene occultata dalla stella compagna un impulso invece positivo della luminosità complessiva del sistema doppio quando invece la nana bianca passa davanti alla stella compagna a volte questo impulso è amplificato dall'effetto di lente gravitazionale generato dalla gravità della nana bianca stessa questa nana bianca si trovava a 2600 anni luce distanza quindi mentre è facile osservare direttamente nane bianche vicine se queste si trovano entro i 30 anni luce nane bianche così lontane hanno bisogno di intensi fenomeni relativistici per poter essere osservate quindi la presenza di una compagna che possa rendere evidenti gli effetti di lente gravitazionale sono fondamentali per poter osservare nane bianche così lontane ci sono altri posti nella galassia dove è possibile osservare nane bianche molto lontane e sono gli ammassi globulari gli ammassi globulari sono le strutture più antiche della galassia e contengono le stelle più antiche queste in gran numero hanno completato la fase di sequenza principale e si sono già convertite in nane bianche quindi questi ammassi globulari sono ricchissimi di nane bianche in più subiscono un fenomeno particolare chiamato segregazione di massa ovvero questi oggetti che sono degli ammassi di stelle con un diametro di circa 100 anni luce ma che contengono almeno centinaia di migliaia di stelle sono oggetti stellari molto densi e per fenomeni gravitazionali subiscono questo l'attristico fenomeno di segregazione di massa ovvero gli oggetti più massicci si concentrano al centro e quelli più leggeri finiscono in periferia visto che le nane bianche sono stelle che hanno perso gran parte della loro massa durante la fase di gigante rossa e di formazione della noblusa planetaria sono anche gli oggetti meno densi di questa masso che quindi finiscono nelle periferie dove più facile osservarli e quindi non solo sono oggetti ricchi di nane bianche ma le rendono anche ben evidenti perché le concentrano lungo le zone più esterne dove è più facile osservarle nella galassia ci sono almeno 150 ammassi globulari che orbitano attorno ad essa e sono sempre più numerosi man mano che ci si avvicina al bulbo galattico e obiettivo in tutte le direzioni non solo lungo il disco galattico ma anche sopra e sotto spesso interagiscono con disco galattico attraversandolo la cosa importante però da ricordare è che sono oggetti molto lontani dalla zona galattica più recente del disco galattico che quindi contiene elementi più pesanti e che subisce spesso fenomeni supernove questo fa sì che la composizione chimica degli ammassi copulari è praticamente immacolata quindi gli ammassi non solo sono oggetti molto densi di nane bianche e facilmente visibili perché concentrate verso l'esterno ma hanno anche avuto poche interazioni con le zone più recenti e più ricche di elementi pesanti della galassia e quindi conservano ancora la composizione chimica originaria che la classe aveva miliardi di anni fa sono quindi un laboratorio importantissimo per studiare questi oggetti ancora finiamo questa lezione con il fenomeno relativistico per eccellenza nel 2015 è stata osservata per la prima volta un'onda gravitazionale e oggi sono diventate a tutti gli effetti uno strumento per poter osservare fenomeni celesti le grandi masse concentrate in piccoli volumi generano onde gravitazionali soprattutto quando si scontrano e questo lo abbiamo visto oggi sia con i buchi neri che con le stelle a neutroni due oggetti molto massicci che abbiano un accanto all'altro e che poi addirittura si scontrano generano enormi e intense onde gravitazionali che poi vengono rilevate dai nuovi rilevatori terrestri è una tecnologia in espansione fino adesso sono state osservate onde gravitazionali generate da buchi neri e stelle a neutroni che si scontrano perché essendo molto massicci genero onde gravitazionali molto intense ma l'evoluzione della tecnologia sta sviluppando sensori che potranno presto sentire anche le onde gravitazionali generate dalle nane bianche che essendo meno massicce sono meno intense cosa succede quando due oggetti così densi si fondono formano un oggetto più grande e la massa finale dell'oggetto non sarà mai la somma delle masse di due oggetti collidenti ma sarà sempre un po di meno perché parte della massa verrà persa sotto forma di onde gravitazionali durante il mega impatto e quindi sono questi fenomeni molto interessanti di recente scoperta che oggi stanno rivoluzionando l'osservazione astronomica di questi oggetti così esotici va detto che se due nane bianche si scontrano possono generare una nana bianca più grande oppure se la massa dell'oggetto risultante supera il limite dicendo saken le due nane bianche che si fondono possono trasformarsi in una stella a neutroni quindi buchi neri e stelle neutroni sono gli oggetti fino adesso osservati da questi fenomeni la loro collisione genera un oggetto più massiccio ma la cui massa finale sarà sempre un po di meno della somma delle masse dei due oggetti collidenti questo perché durante l'impatto parte della massa viene persa sotto forma di energia radiazionale dalle onde gravitazionali questo è un fenomeno molto interessante di recente scoperta che sta rivoluzionando l'osservazione astronomica dello spazio profondo gli strumenti ancora non riescono a rilevare le onde gravitazionali generate da oggetti meno massicci come nane bianche ma presto l'evoluzione tecnologica arriverà a fare anche quello però già oggi sono state scoperte due nane bianche che avranno questo destino infatti va citato il caso di enize 2428 che è un sistema fatto da due nane bianche su un'orbita decadimento ovvero che a ogni oscillazione sono sempre più vicine e che sono destinate a fondesi tra 700 milioni di anni questi oggetti si trovano all'interno di una nebulosa la fusione avverrà tra moltissimo tempo però sappiamo che avverrà la cosa interessante di questo sistema è che alla fine della loro fusione l'oggetto finale nonostante la perdita di massa dovuta alle onde gravitazionali avrà comunque una massa di 1,8 masse solari quindi avrà superato il limite di chandrasakhen e questo è proprio un caso da manuale per cui due nane bianche in rotta di collisione quando si fonderanno si trasformeranno in una stella a neutroni perché la massa finale dell'oggetto avrà superato il limite di chandrasakhen e questo evento ovviamente causerà una supernova di tipo 1a perché l'accrezione delle due masse innescherà le reazioni di fusione nucleare tra carbonio ossigeno nei loro nuclei dando origine a questa esplosione termonucleare asimetrica generando ferro e silicio ed esplodendo poi in questa grande supernova se l'oggetto sopravvissuto manterrà una massa superiore al limite di chandrasakhen diventerà una nana bianca altrimenti se l'esplosione sarà tanto forte potrebbe addirittura distruggere i due corpi tra 700 milioni di anni non saremo lì a vedere cosa succederà però oggi molti scienziati stanno studiando questo fenomeno e poter prevedere la sua evoluzione futura detto questo ho finito anche questa lezione e nella prossima lezione parlerò dei sistemi binari sono moltissime nella nostra galassia le stelle che condividono l'esistenza con una compagna quindi noi viviamo nel sistema solare che è un sistema planetario con una sola stella ma sono molto comuni i sistemi planetari con due o più stelle e le vedremo in dettaglio nella prossima lezione potete trovare questa lezione e tutto il corso di astronomia sul mio canale youtube e sulle mie pagine social instagram e facebook prof antonio loiacono grazie